Oltre siamo avanti, svempaca, e stai mi siudà, non la vuoi cambiare Tanta ciò che vuoi, hai la libertà, quindi loga qua, se vi vuoi far Ringraziamo i danni a case Ok Ma perché sto a qui c'è tutto paralizzato a qui c'è? Ah perché c'ho fame cazzo C'ho fame Eh c'ho fame devo mangiare Andiamo a mangiare dai Chi è quel porco di dio? Te si vuole bene ma te Chi è quel porco di dio? Che si è preso tutto il cibo porca madonna Porco dio non c'ho nemmeno lo gerulare Porco dio Ti rendi? Ti rendi conto? Madonna fammigli vedere se ci sta quel po' dentro un geratore qua Fammigli vedere Fammigli vedere come si apre qua Va tu Annaggia la madonna Fammigli vedere se ci sta quel po' dentro ieri Niente Pure quel po' dentro ieri è finito Porco diavolo È finito pure l'uomo di ieri Allora Grazie mille armagico Grande armagico Zero giga Quattro mesi Buonasera Buonasera Un bacio enorme Quando te ne vai a casa nuova Eh A voglia Non è per amore Nessun veicolo Porco dio Formasto pure a piedi Mannaggia la madonna Mi fa male la schiena Non c'ho mai ancora il telefono Ah il telefono ce l'ho Madonna Dio come lagga Ciao quinto sono Vance Zero Che zero salvato come zero Bravo Vediamo se ci sta dieci Dio come grazie ha Puglia Come grazie a lui Continua Puglia Perda Puglia grazie mille king kong 15 mesi grazie un bacio enorme grazie mille king kong grazie mille luis 10 10 e sab tier 3 grande grazie mille grazie mille per me grazie mille a sasac y1 100 bit adesso vuole bene ma te grazie mille grazie mille per lo mio è migliore ogni giorno in giorno per lo mio grazie e mangio ma che mangio sto cazzo non c'ho niente da mangiare poi nico nove mesi del sab grazie per lo mio senza cibo e senza acqua mannaggia la madonna i miei i miei dipendenti mi hanno svuotato tutto il frigo vieni pure al 7 15 salve signore ciao ciao bene chi siete sta un po ingoblinito signora ingoblinito e la vedo un po c'ho fame io non c'ho niente se non glielo darei ho qualcosina io dammi dimmi ce l'hai? si qualcosina si eh eeeh numerero fortunato? una parola devi fare punto interrogativo no no tuo tuo venga qua non c'ha non c'ha numerino non c'è come no oh è vero non c'ho forse questo no aspetta aspetta scrivo scrivo no c aspetta che numerino c'hai? ok 1592 oh allora ti ho dato a te ah ti ho dato mo ok ho dato a te oh grazie grazie è un fantasma non c'è un numerino oh grazie grazie ma come faccio a levare sta camminata tutta storta ok oh grazie arrivederci arrivederci eh aspetta aspetta ma perché non ci stanno più i non pensanti? ma che ora è? è tardi? no ci stanno ci stanno io non li vedo voi li vedete? eh è ora di cena stanno tutti a mangiare perché io devo andare al garage centrale mi serve una macchina un passaggio e come facciamo? boh andiamo a prendere una e torniamo dai sì sì ti aspetto qua 7 e 15 ah mo si che stai ragionando grazie mille a ste spacco bottiglia grazie mille bene mio un bacio enorme grazie mille del sub grazie mille grazie mille anche a Querezzo grazie mille dei tre mesi delle sub grazie salve venga venga ah vengo? ma voi abitate qua vicino? ah eh vabbè vabbè uguale ma voi abitate qua vicino? no no non ci abbiamo di mola fissa adesso noi siamo in giro così ah ma che ci stai in giro? ma tutto quello che vuoi ci sta una festa in giro? urca miseria mamma non so se stasera c'è qualcosa ma che cazzo? aspetta ma prendiamo macchina a quattro porti non è insieme palma lo apprendiamo macchina qua a quattro posti no? eh non è a quattro posti questo è quale? quale più? questa? vedi ciao stronzo no ah vabbè ah oddio ah non è non pensante oddio ah vabbè ti stai a scicare è hermanito a me? vabbè ciao belli solo che stronzo è lei oddio non era un non pensante era pensante pensava porca madò ah voleva portarmi là o voleva portarmi porca puttana eh tanto qua a moglie il fuoco fammi più un megafono team corona sette tre mesi grazie ciao bello grazie mille dalla sub ciao bellissimo madonna vi do fuoco al locale prima o poi gli darò fuoco porco oddio pronto sì sono a settecento minuti sì sì sto arrivando devo prendere la macchina arrivo un minuto arrivo ok va bene va bene ok arrivederci 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 macchina merda ma è la mia scusa scusa eh sfida nifo spide i pirati della strada porca ma do andale gareta no No, non cazzo. No? Avesse però un film di Fast & Furious, porca troia. No, ma no, ma quello sta aspettando. Ehi, vai. Ok Vai Madonna come corre porca troia Oddio Destra L'anima dei mortacci 2 Porco dio Oh babbo Orca puttana babbo Noni E noni Grazie babbo Ah shit La vaffanculo trota E' contro mano qua Sposto la macchina Aspetti Tutto rotto porca No no non fa niente Non fa niente Vabbè Allora salve Signor Aspetta San No Era Ah lei è santo Io santo sono Ah lei è santo E io sono un peccatore Va bene Ciao bello E' piacere Piacere di rivederla Come di rivederla Con il messaggio che mi ha scritto Ah si si no perché è finito il cibo Si grazie Venga venga Mo le apro Sono il ragazzo Che hai bannato in passato Per aver esagerato Con le parole Nella discussione Della bevanda Level up Ci tenevo a scusarmi Tranquillo Bello mio Emanuele Tranquillo Non è successo niente Grazie mille Adrian Grazie mille Un attimo E sto salutando Un attimo Amici Grazie mille Un attimo C'è un attimo Una chiamata importante Sì Allora Grazie mille Adrian Grazie mille Melanzana On the way Sei mesi Ciao bello Se vola Ciao bello Grazie mille Safer the crew Grazie mille 16 mesi Re sub E fast hurricane Altro che fast hurricane Fast and furious Grazie Grazie mille Fast hurricane 15 mesi Grazie mille Per i miei Allora Eccomi Sì Eh c'avevo un attimo Delle cose No vabbè faccio Faccio Allora guarda Se c'è del cibo Puoi metterlo pure Qui dentro il frigo Vieni vieni Eh no Non lo vedi il frigo Eh vabbè Non fai niente Ah si Qua qua Metti pure qua Passa pure a me Grazie Jacopo Ok ok Allora Guarda Io Non so se ha parlato Con il direttore No il direttore mi ha detto Che mi ha scelto Per arredare casa Sì sì Allora io Non so E qua la storia mia Della casa Della macchina Che c'ho Ok Io non c'ho una lira C'ho solo bitcoin E gli ho detto E gli ho detto Se era possibile Sì se è possibile Fare con i bitcoin Perché io non c'ho soldi cash E non posso pagare Non posso pagare Al momento Ho venduto Tutta Tutta Sulla vecchia città Ho venduto Tutte le proprietà Che c'avevo Tutto E a mo Mi sono ritrovato Con insomma Sto villone Tutto spoio E qualche bitcoin Allora Se era possibile Arredarla Non so Le dico più o meno I miei gusti Oppure lei già C'ha un'idea Allora io un'idea Ce l'avrei Però ho l'idea Di tutte le case Poi non lo so Se lei ha richieste particolari Sì Ok Perfetto E mi dica le richieste Che le segno Allora Tablet Qui puoi farlo A suo piacere Qui Io ovviamente Vorrei Normale Con ovviamente Il tavolo Oddio Qua io vorrei Allora Qui c'è il finestrone No Io qua vorrei Una bella Una bella tv Qua Una bella tv Grossa Qua Importante Io qua metto il tv Poi qua metto il tavolo Sì sì Un attimo Aspetti Aspetti un attimo Ma chi cazzo è Chi è? Salve salve Quinto giusto? Mmm Boh Non lo so Chi è lei? Eh io so Vance Ci incontrammo Tempo fa Al parcheggio Mi devi dar il numero Di Zuna Non mi hai dato Più un calzo Eh perché Zuna mi ha detto No non me lo dà Meglio non fidarci Io lavoro per lui Lui mi ha detto Di non fidarmi Io non mi fido Mi dispiace Non Io ho fatto Il possibile E quindi niente? Salta tutto? Eh Guarda Se vuoi lavorare Con me Purtroppo Io Al momento C'ho altri Impegni Altre cose Non Eh Fammi Tanto il lavoro Per cazzi miei Mi servono solo i contatti Per poi Togliermi le cose Capito? Eh beh Se vuoi toglierle Basta che viene da me Se vuoi Io te le vendo io Te le compro io Te le compro io Cash Te le compro io Cash E poi dopo me le rivendo Per cazzi miei Se vuoi Ci siamo Ci siamo Ok Ok Va bene Tu che cosa produci In particolare? Eh Per adesso La mentuccia Marihuana O amnesia? Marihuana Marihuana Ok Io per la marihuana Ti posso dare Sulle 200 Se Facciamo 220 Dai Eh 200 Perché Cioè Purtroppo Io Io la rivendo a 220 Per dirti Quindi 200 Se no Trovi un altro contatto La mia offerta è questa Se no Vedi tu Se no Dopo te rimane sul gruppone Vedi tu Ok Va bene Giustamente prendi a chilo No Io appena c'è un chilo Te lo porto Va bene Sì 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 Va bene Va bene Quando ce l'hai Tu basta che mi chiami Io te lo porto Ok Ti porto i soldi E tutto Ciao bello Ciao 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 Di solito le case Sì, sì Qua se c'è un tappeto Sì, se c'è un tappeto Sono fatti delle decorazioni che mettiamo Sempre, comunque Sono sempre decorazioni che facciamo noi In particolare Perfetto, perfetto Sì, sì, guarda, vieni con me Tipo, che ne so Queste particolari Sì, vieni, 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 vieni Allora, io c'ho una richiesta particolare Molto particolare Ascolto Allora, io ho preso questa casa, no? Con i Bitcoin ho preso questa casa Però c'è un problema enorme Ovvero che qua sotto Ci sta il Il bagno, no? Qua è la camera da letto Doria dovrebbe essere una bella camera da letto Qua, no? Allora, io qua la camera da letto C'è una richiesta molto particolare Una bella camera da letto Bella spaziosa Come piace a me Con un bel letto Quelli, sai, letti Entrare anche in un ufficio se vuole No, no Letto Letto bello matrimoniale Il più grosso che c'hai E tutti quanti i quadri Io voglio stare bello largo Qua poi un bello guardaroba Se ce l'hai Qua dentro Qua Non c'è stato il bidet Eh, sì E il bidet mi diceva la signorina Weinona 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 Weinona, sì? Sì, che non c'è stato Praticamente Dentro il E allora Avevo pensato Se tu me ci metti Chiami l'idraulico Me ci metti un bello lavandino Vedo cosa posso fare Va bene Mettici, ci metti Non posso chiamare per modifiche Cioè, allora No, 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 no Ci metti Allora, ci metti Un bello lavandino Se non è possibile Metti un bidet Un lavandino Qua per terra Segna, segna Un lavandino per terra L'importante è che Invece Che reggi il peso Del Del corpo umano E che Ci sia lo Lo coso spruzzo Cioè, per pulisere lo culo Magari Magari Facciamo Mettiamo col cemento chimico Che Mettiamo cemento chimico E cemento normale Così Ok Vabbè Anche 100 kg Ok, vedi tu Vedi tu Poi Altra cosa Qua Una bella doccia Qua c'è Una bella doccia Una bella vasca Cioè, sì Poi qua Diciamo che ci siamo Abbiamo fatto tutto qua Venga, venga Sì, sì Vengono vari dettagli Vari mobili Quelli verranno fatti Cioè, sì Poi qua Dei bei quadri Non molto costosi Ecco Nel senso Vedi tu Poi andando sotto Io non so se è possibile Mettere i muri Il cartongesso Qua sotto Sì Sì, sì Sì Qua io vorrei mettere Dei cartone Devi mettere Uno Uno solo qui Qui Per chiudere questa zona Ok, quindi È possibile Diciamo Acqua Questa zona Vuole chiudere Sì, se no Da qui Guarda Da qui Fino a qua Così Se è possibile Se no Vedi tu Quindi vuole chiudere Una stanza Praticamente Sì, sì Voglio chiudere la stanza E ci vorrei mettere La porta Sì Ok Ok, va bene Va bene Va bene Poi qua Qua ci voglio Sì, sì Qua ci devo mettere Allora La cassetta Delle attrezzi Qua tutto quanto Il bancone Delle attrezzi Qua sotto Qua sotto Lo devo fare Tipo Ripostiglio Per Vabbè Non so se posso dirlo Posso parlare Apertamente Sì, sì Prego Allora Mi servirebbero Tipo le Le forbici Le Le dronchesi Perché devo tagliare Il cazzo Le persone Ok E poi Vorrei ammazzare Tipo qualche Vorrei Sciogliere Nell'acido Qualche persona Oppure Non ne so E qua Mi servirebbe Una vasca Una vasca Che supporta L'acido Qua In questa stanza Sì, sì Qua dentro L'acido Una bella vasca Ci metti qua Ok Ti metto La vasca La vasca Che metterò In bagno sopra No, no Una vasca chimica Fatta apposta Ah, chimica Se c'hai Pure qualche bidone Io già avevo parlato Con Il suo supremo Eh, se tu ci metti Qui, non lo so Qualche bidone Della spazzatura Qua Qualche bidone Blu Non lo so Qualcosa per Insomma Capito? Ok Qua la devi fare Più grezza possibile Sta zona Ok Più inquietante La voglio Va bene Tipo stanza delle torture Esatto Stanza delle torture Hai capito bene Hai capito bene Qua Qua ci voglio Tutto quanto Devo torturare Le persone qui Ok Un'altra cosa Che non mi è molto chiara Sì Devo chiudere Con il cartongesso Qui Sì Sotto scala Esatto Esatto Sì Perfetto 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 Ok Eh io penso Che ci siamo detto Tutto Sì Devo firmare Le carte Che poi Devo trasferire Sì Te devo dare chiavi Di casa Sì I lavori iniziano Domani Per sette giorni Quindi tra sette giorni La casa sarà pronta Sicuramente Ma potrebbe essere pronta Anche prima Ma io posso entrare Uscire Quando voglio Può entrare Uscire Può fare quello che vuole Io non vedo Non parlo E non sento Cioè nel senso Tutto quello che fa Io non lo so Non sono Non posso aprire L'armadio Diciamo Quindi il frigorifero Non posso aprire nulla Ok ok L'importante è che ci fai La sala di torture Qua sotto Perché devo uccidere Un po' di persone Forse Ho capito Se devo uccidere qualcuno Devo Insomma Hai capito Io non sono nulla Tu stai tranquillo Ok Venga venga Sì Le do le chiavi Mi deve dare anche Un documento Eh oddio Documenti Eh Solo documento Sì sì Ma che cazzo Ma io Eh aspetta eh Sì io nel frattempo Inizio a compilare Allora venga qui Che le do le chiavi Sì Ho dato le chiavi Mi raccomando però La polizia Nel senso Voglio più Discrezione possibile Sì 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 Perché se poco su poco Scopro che dici qualcosa Alla polizia O spifferi qualcosa in giro Eh io bello mio Te devo No Sia tranquillo Io glielo ho detto Io non vedo Non parlo E non sento Ok meglio 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 Allora Guarda Te serve un documento Sì mi serve un documento Lo vedi No La sera tutta di nascita Presumidi Aspetta Oh Occhio ora lo vede Grazie mille 9-5-8 Fra Grazie mille Per aver regalato la sub A ciulaio Grazie Un bacio enorme Grazie mille Grazie mille Grazie mille Il baldone 18-100 pizza Grazie mille Te voglio bene Continua così Sei il migliore Grazie mille Bellissimo Grazie Grazie mille Mauro Mauro Orgiu Grazie mille 5 mesi Re sub E' buono Mauro Orgiu Grazie mille Giuseppe 637 3 mesi Re sub E' buono Peppe Ciao bello Grazie mille Grazie mille Anche Jacopo 2 sub Regalate Grazie mille Per lo mio Mamma mia Jacopo Com'è? Il suo numero Di telefono 327 Sì 03 Sì 67 Sì 438 Mi scusi? Sì Il suo numero Di telefono Ah scusami 333 Ah no 333 70 18 101 Capito Va Me lo prendo Il mio tele Sì Sì Mi scusi Ma Sì Sì Non c'è Modo Per vedere Numeri Aspetti Grazie Ragazzi Ragazzi Chiamate Tutti Il 333 70 18 101 Chiamategli Tutti Perfetto Ok signor Macchiati Fatto tutto Ok Grazie mille Allora ci siamo Detti tutto Sì 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 Ah Aspetta Io avevo Parlato col signor Col signor Stratford Mi pare Si chiama Jordan Belfort Belfort Esatto Sì E mi ha detto Che io potevo Scambiare I bitcoin In soldi reali Nel senso Eh Perché ho qualche bitcoin Io ho bisogno Di venderlo Però Lo vorrei Perché qua In questa città Non ci si può comprare Niente Non ci si può comprare Con i bitcoin Onestamente Non so Come si fa Devo chiamare Tu ce l'hai Il numero Il signor Belfort In teoria Doce lo della signorina Astrid Sì sì Un attimo Eh Sveglia? Non penso E allora Quando è sveglia Vabbè Dopo la chiamo Grazie mille Arrivederci Arrivederci Eh Però deve Spostare la macchina Sì sì Ci vale un po' Perché C'ho problemi Vabbè Quando la città Permette Arrivederci Eh Che no Eh no Ero entrato Dalle Vabbè La città Vado E se si sposta Dimmi quando ti sei spostato Vai vai Che te pilla Se engorbo Cornudo Cornudo De merda Porco Dio Madonna Tutta acciaccata Sta macchina Sembo ubriaco Oggi Per come cazzo Guido Questa macchina Porca puttana Fa certi voli Porco diavolo Guarda 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 Tarmenda leggera Porca troia Sta macchina Tarmenda leggera Raga Salve 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 Grazie a tutti. E' buono, ma te, mamma mia, quanto ti voglio bene, ma te, sei un... A posto, caro, la macchina arriva là. Quanti kit volevi? Eh? Quanti kit volevi? Eh, cinque. Ok. Allora. Scusami, dopo puoi ripararmi la moto? Sì, caro. Grazie mille, Vito Panettieri, Dumei, Sidere, Sab, grazie. Grazie mille, grazie mille, anche a Stasi 00, 200 pizza, grazie. Allora, ti faccio il conto, caro? Sì, sì. Ah, ma hai capito che mi devo riparare la tua moto? Dopo, volevo cambiare il colore della macchina. Pele, 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 che... A dieci, ma a dove cazzo stai? Me senti? Eh, te sento, te sento, ma dove stai? Sono a casa, sono a casa. A casa? Io morrivo. Va bene, 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 va bene. A morrivo, arrivo, arrivo. Le orecchie, perché grida, signore? Eh, scusami, scusami, no, mi stavo sbagliato. Ciao, grazie, grazie, arrivederci. Grazie, quanto costa? Ho fatto la fattura, caro. Eh, ma quanto mesi fatto, te... Urco di lavoro. Ho fatto pure lo sconto, caro, eh? Ciao, grazie mille. Arrivederci. Mettiamo, scusami. No, libera, caro. Cammina, caro, questa moduna. Mi spuse. E mo' come funziona la sfida? Aspetta, ragazzi. E mo' la sfida come funziona la sfida, quella di punti canale. Ma la posso dar buona lo stesso? Perché non va? Non mi funziona win, perché? Perché è bloccato, porco, addio mo'. Win è bloccato, non funziona più win. Perché non funziona più win, raga? È bianco, perché? Perché win è bianco, raga? Qualcuno lo sa che devo premere? Control, esc. Ah, grazie. Control, esc. Allora. Dicevamo. Pundi canale. Estendi. Vabbè, lo estendo. Quando lo raggiungo, raga. Si vedrà. Porco iddio. Ma porco iddio. Ma c'avevo la cennura, mannaggia, quella madonna. Inbestata di Dio. Ma porca madonna. Mi sono scoppiato tutte le ruote, porco iddio. Ma che cazzo è? Carca madonna. Ma porca madonna. E' il ricco diavola, porco dio. Mannaggia, quella madonna, troia della madonna. Ma porcina. E' il ricco. Ma porca madonna. Ma porco iddio. E' il ricco di dover. Ma porca madonna. Ma porca madonna. Badonna. Ma porca madonna. Ma porco iddio. A me sei venuto d'osso Guarda io, guidavo quel pagliaccio là per terra Guarda l'olio Che dove sta? Muo, gli tiro una porca troia, guarda Ammo, lupiglio Muo tra poco Guarda, naggia a te, guarda, sto testa di cazzo Ma ce vedi? Ah, che male, cazzo Porca troia Ammo, io sono venuto da poco in città Non ho gli sordi per riparare l'auto Cazzo Dov'è la sua macchina? La, quella rossa, grazie Mi so che stavamo andando Venga con me, signore Ah, beh, per fortuna me la ripara Se no facevo questa adozione amichevole Dell'Ugid Devo parlare con te, signore Con me? Sì, sì, con te, con te Perché con me? E chi so? Eh, vieni qua Queste macchine Eh, vengo Dimmi Vuole fare una gareta, signorina? Eh? Signore, il signore Vuole fare una gareta? Signorina Eh, oh Signore, scusi Non so Ma tu mi hai visto qua, che sexy symbol Che sono? Oh, te lo Hai cari, c'è una donna Eh Vuole fare una gareta Oh, ma no, signore Ma perché tu ti mi scambia per donna? Oh, ma via Signorina Signorina Signor, signor, tu con i capelli biondi Ti devo dire una cosa? Eh, dimmi, dimmi, dimmi Ti sto mettendo a posto la macchina Oh, oh, mamma mia, scusa Dimmi, dimmi Eh, signor, eh Oh, allontanati tu Eh, dai, fatemi parlare con questo babbo natale Dimmi Eh, signor, io ero un tuo dipendente Adesso in un'altra città Stimati, signori Come nuova Eh? La macchina è come nuova Ah, grazie mille, grazie, grazie Però La fattura mi hai fatto? No, 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 niente fattura Mi deve fare solo un favore Mi deve fare una promessa Quando vanno a dire custom E vede la signorina con i capelli rossi Non la faccia arrabbiare No, io non ci vado più là Io vado al Bendis A Pupazzi Mi deve promettere che non fa più arrabbiare la signorina Chanel Va bene? Eh, Chanel Ma tu Chanel Ma tu non hai capito, bello mio Che succede? Io Chanel la chiappo E la butto giù da un dirupo, porca puttana Ok, dietro a Chanel Oh, oh, oh Piano, piano Stronzo Cadroia Dai, vedi, dai, vedi Fanculo Ecco la madonna Ecco la madonna Che volo, porca Tutto bene? In for speed? Magari che vado? Aò, tutto bene? Vai, ai, ai Tutto bene? Eh, più a meno Tutto bene? Sono poco più Tutto bene? Ah, scusa Eh, eh, eh Eh, eh È buono Muita di risolta Non è unico da mire Cattolio se è difficile guida sta macchina Ciao padrone Sì Andiamo dentro Allora a me dovete spiegare una cosa Un attimo fammi un attimo sistema Ok Allora a me dovete spiegare una cosa Mi piacciono dei vestiti No no Mi piacciono Mi dovete spiegare dove cazzo sono affiniti 50 panini E 50 bottiglie d'acqua Dove stanno? Io lo spiego subito dove stanno Il problema è che in questi giorni abbiamo avuto molti feriti in campo Ogni volta ognuno prendeva uno o due pezzi di cipo di acqua E quindi questo Il problema è che non abbiamo protezione nei campi Ma nemmeno per l'amnesia? No no nemmeno per l'amnesia Ci hanno ferito a che ricordo io Che colore erano? Ci hanno ferito a quello che ricordo io quattro volte Quello che non ricordo non so Quindi ogni volta compravamo telefoni Compravamo cipo Poi sono finiti un po' i soldi E quindi questo Abbiamo fatto in convenso 4.500 di Di amnesia 4.500 Beh buoni Non pulita però Non è pulita No non è pulita perché non sapevano Il punto Eh almeno Eh almeno ci vogliono 40 kg Almeno Perché 4.500 Non ci faccio niente Almeno 40 kg Di roba Eh ma quando facciamo 40 kg Per le persone che tra l'altro ci friscono sempre E allora parliamo Ci parlo io con questi Eh magari Se può Secondo me Parla con i viola Cioè Magari C'è loro Sono sempre la fame Ma ci penso io Comunque secondo me anche i bianchi 10 Cioè Cioè Grazie a tutti. 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 Sto stando di vedere che hanno scurato molte volte e ho visto che li hanno scurato e poi... La sim? Che è la sim? Oddio, la sim. Non c'è la sim, raga? Grazie a tutti. Fai vedere se chiama la moneta immodata che sto giocando adesso? Il signore S non mi risponde. Il signore S non mi risponde. Vabbè, mi serve N! Signore S, signore N, ma che cazzo è? Oh, mi è contro te, porca madonna... Non c'è la donna... Che l'ha conosciuto qualche giorno fa, si chiama ApiDead. Chi? ApiDead si chiama. ApiDead... Vabbè, ApiDead! Senti... Noi dobbiamo andare a parlare d'affari, io e dieci, su un posto. E possiamo sentire dopo? Va bene, va bene, si. Ok. Ciao, bello. Ciao, ciao. Ah, patrano, è una cosa importante. Eh, dimmi, dimmi. C'è un problema... C'è successo un casino, venga, venga. Levate un attimo... Leva la pistola, per favore. Leva la pistola. No, non ce l'ho la pistola. No? Ok, andiamo. Chi è? Chi è? Che cazzo? Ma chi è? Ah, è Babba Natale. Questo... Prima è venuto a me e mi ha detto... Eh, ti ricordi, nell'altra città e lavoravo per te. Ma... Comunque c'è un problema, posso parlare. Eh, dimmi, dimmi, che è successo? Sì, sì, mi hanno accettato un certo Leonardo. Ah, entra, entra, mo'. Entra, entra. Non lo conosce. No, non lo conosco, non l'ho mai visto. Eh, in pratica mi ha detto... Mi ha chiamato, mi ha detto che voleva... Eh? Ma... 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 Va bene, entra, entra. Sì, sì. Mi ha chiamato, mi ha detto che... Un momento, eh, provo a chiamarti. Eh, sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Ok, no, era solo per assicurarmi. Allora, un attimo che devo un attimo controllare la segreteria. C'ho tanti messaggi, un attimo, eh. Sì, sicuramente. Sì. Allora, grazie mille a XZadrik. Grazie mille, bello mio, della sub. Ciao, bellissimo. Un bacio enorme, grazie mille. Grazie mille... Grazie mille... Del sub. Grazie mille. Mua, benvenuto. Grazie mille, grazie mille. Raider00. Come stai? Te se vuole bene? Tutto bene? Magnificamente bene. Tutto bene, bello mio. 13 mesi, grazie. Grazie mille anche a... 9ZioRudi9. Grazie mille del sub. Grazie mille. E... Alberto Marega. 100 bit. Grazie. Ciao Matteo, vorrei giocare con te. Solo che devo fare la whitelist. Eh... Però non mi fa metagame. Non veni dentro, per favore. E... A chi... De... De lavorare per me, perché... Grazie mille. Stefano Mone. Quattro mesi della sub. Grazie. Un bacio enorme. Grazie, grazie mille. Grazie mille. Sassi00 della sub. Tuo amico Danilo. Eh... Buono Danilo! Grazie mille. Grazie mille anche Alessandro Miconi. Grazie mille Alessandro Miconi. Dei due mesi. Grazie mille anche Mazzunnetics. Tre mesi. Bella Mattese il top. Ciao bello. Grazie mille Mark147198. Grazie mille. Due mesi di resab. Poi il capo Fex dice... Saluti il mio amico Soisamo. È buono Soisamo! Ciao bello! Grazie mille Giallufix2. Grazie mille due mesi di resab. Un bacio enorme. Mamma mia quando ti voglio bene. Sono grande. Grazie mille Sassi. Ma ti voglio bene pure io. Grazie mille Vito Panettiere. Due mesi di resab. Vediamo. Grazie mille. Bellissimo. Allora andiamo. Se riesco a passare la fila sì. Dobbiamo... Sì. Grazie mille. Dottor Tullone. Grazie mille. Com'è? Ti sarei peccato adesso. Io non riesco a stare qua. Eh lo so. Dobbiamo andare però. Pronto? Pronto? Chi è? Mi hai scoperto. Mi hai scoperto. Lei è il signor Quinto. Mi stai riabbito. Sì mi dica. Allora. Praticamente è nato il suo numero Marius. Dipendente di... Di Zona. Sì. E mi ha detto che a lei servirebbe una mano. Chi è che l'ha dato il mio numero? Marius. Il... Dipendente di Zona. Eh... Ma perché non lavori per i Zona allora? Scusami. Perché sono piedi loro. Chi? Sono piedi loro. Sono piedi. Mmm... Te sei una persona affidabile? Chi sei? Chi non sei? Che esperienza hai? Ma io so fare tutto. Tutto quello che mi... Che mi chiedi. Mi ha detto lui di... Tu sai fare tutto? Tutto. Allora vieni a tenere a fangulo che è meglio. Ok. Riavvio. Riavvio. Ah, riavvio. A che ora? Eh, adesso. Adesso. Questo mi deve stare... Dio che torna... Ale, guarda, guarda. No, un casino. Sai che... Ecco la mannaggia che l'ha trota. Erco. Bannato? No, no. Allora. Affari di famiglia. Porca troia. Chi è? Ma che è? Ho scoppiato. Porca troia. Ma che era? Ok. C'è stato il riavvio, ragazzi. Vado a chiamare donne e arrivo. Anzi no dai, buraccio. Lo faccio dormì. Sì. 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 Non si riavvio. gdzie che sta riavvodindo? Beh. È che poi ha lavorato. anderen catten. Passiamo adesso subito. Al avvio. Che puoi dire che non si sente. Questa poi tapi... non si senta buono destinata, riavvlazze istituzione. Non è più buono construzione. Ma non ho sbaglio. Che vuol dire che non si sente ragazzi Ragazzi la cam l'ho settata L'ho sistemata la cam Ditemi quando tornavo nel server Ma sei dimagrito? Beh Ti sento un po' male per colpa del wifi Ti sento male? Bu? Grazie mille Daniel Gretti! Ciao bello! Ciao Riva! Ti disturbo? Potresti un attimo controllare la live? Giusto? 30 secondi per sentire Per vedere se si sente bene l'audio O no perché dicono che si sente male Il microfono e la Wii PC Se puoi un attimo Buttagli un occhio, un orecchio Un attimo e fammi capire Potrebbe anche essere un problema vostro eh 10 si sentiva male Perché il 936P? Eh il perché raga Ve lo dico subito No 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 Oddio questo me lo devo vedere Dai ai Bob Come è off? Ciao bello come sta oggi? Perché non carica? Grazie mille Pietro De Marzo! Mua! Pietro De Marzo! Grazie! Ciao bello mio come stai? Grazie, grazie mille Grazie mille anche a PekkaFN100bit Il King of Skyrim 25 mesi È buono! Grazie mille Non fidarti di 10 Ma no no Come si verifica effettivamente Se una live è embeddata È bottata Quanti spettatori ha Quanti chatters ha Ci sono degli strumenti Che persone reali Poi ci arriviamo a questo Perché di questa cosa non ne parla nessuno Potrebbero essere servizi automatizzati Quindi bot effettivi O persone reali Ma comunque utilizzare Un qualche metodo Per aumentare le views In modo non organico Non naturale Ok? Non seguendo quelle che sono le logiche Della piattaforma Non semplicemente facendo arrivare Il pubblico Tramite Twitch O tramite social esterni Ma andare a inflazionare Gli spettatori In questo caso Si può fare anche con i follower I follower però non hanno Nessuna valenza reale su Twitch Quindi è una perdita di tempo È inutile E tendenzialmente Non lo fa nessuno Gli unici che lo fanno Lo fanno per dar fastidio Ad altre persone in live Cioè mandano Un certo numero di follow bot Solo per far Triggerare gli alert E infastidire le persone Anche le aziende Chi lavora nel campo Non dà più nessun valore Ai follower Come gli iscritti YouTube L'unica cosa Esatto Mannaggia la madonna Ho 200.000 follower Magari Cosa che ha effettivamente valore È la reach Quindi il numero di persone Che si raggiungono Grazie Lore 100 bit Grazie mille Bellissimo Grazie Nessun valore In questo momento I miei spettatori reali Sono di molto Inferiori A Quelli che vedete Nel numero qua sotto E io vi chiedo Perché Perché in questo momento In realtà Per tutta la durata Di questo mese Sarò in front page Di Twitch Il che vuol dire Che Twitch Essendo io partner Ha deciso di mettermi In rotazione Nella front page Cosa che a me non fa Cosa che a me non fa Twitch Cioè Twitch a me Non mi metti in on page Perché non mi metti In on page Secondo voi Perché sono etichettato Sin dal primo giorno In cui sono entrato Su questa piattaforma Etichettato come La pecora nera Questo significa Che durante questo mese Tutte le persone Che navigano Nella front page Anche se effettivamente Non hanno la mia live Magari con l'audio attivo Ma stanno semplicemente Navigando Conteranno come effettivo Spettatore Perché stanno guardando La live Anche se effettivamente Magari in quel momento Non partecipano Attivamente alla live Quindi Primo elemento Verificare i front page E i consigliati Se uno streamer È in front page In rotazione O nei consigliati È ovvio che Dall'home page Gli arrivano dei numeri Più alti Quindi Verificate questo per primo Secondo Se non è un partner Ma è un affiliate Controllate se In quel momento Sta Attivo sul proprio canale Lo stream boost Cos'è lo stream boost? È un obiettivo community Per cui Se il pubblico Riscatta i punti In un preciso momento In cui compare Lo stream boost Sulla stream Una specie di hype train Può Praticamente Far comparire Nell'home page Di Twitch Un affiliate E sotto vedrete L'etichetta Sponsorizzato Quello semplicemente È stato un obiettivo Della community raggiunto Che ha messo In front page Ne consigliati Quello determinato affiliate Quello è un altro motivo Per cui si possono alzare le views Poi Tolti questi due Che sono strumenti Inseriti all'interno di Twitch Bisogna fare una differenza Fondamentale Tra L'embedding E il Botting Cosa vuol dire Embed Embed Significa Integrare Un contenuto Quello che facevo io Io Mi embeddavo Molti mi dicevano Che mi bottavo Nel mio periodo Diciamo Quando Tanto tempo fa In cui io avevo 2000 views Ma 200 persone in chat In quel momento Io Non mi bottavo Mi embeddavo Cosa che poi Twitch Mi ha Praticamente Ha denunciato il fatto Ha fatto chiudere Il sito Del Del mio amico Che mi Embeddava Insomma Sono successe Tante di quelle cose Brutte Ragazzi Che non voglio nemmeno pensare Però Quanto pare Adesso ci stanno Altre persone Che lo fanno Quindi Ragazzi Live Di Twitch Un contenuto video All'interno Di un altro sito web Praticamente Prendere La diretta E in qualche caso Anche la chat E inserirle In un altro sito web esterno Cosa succede? Che tutte le persone Che in quel momento Visiteranno Quel sito web Saranno conteggiati Come spettatori Ma nella maggior parte Dei casi Non saranno collegati Alla chat Perché non avranno Fatto il login Su Twitch O comunque Staranno vedendo Solo il player Della live Su un altro sito Ma senza poter Interagire in chat Quello è Embedd Sì ho capito Che è on Sto un attimo A vedere Sto video Posso un attimo Vedermelo Per favore Ed è per esempio Quella maggior parte Di testate Giornalistiche Perché hanno Il player di Twitch Magari sulla loro Testata E nel frattempo Loro stanno in stream Magari su Twitch Chi segue Quel sito internet Magari sta guardando Dal sito E quindi Dalle views Poi che navighi Che abbia l'audio attivo Che non l'abbia attivo Che stia guardando Che non stia guardando Indipendentemente Comunque Conterà come uno spettatore Invece cos'è il botting Il botting Invece è L'aumentare Il numero di spettatori Direttamente Sulla live Con Utenti Falsi O reali Che siano collegati Alla chat Perché falsi O reali Per quelli reali Arriverò Verso la fine Della live di oggi A spiegarvi Di cosa si tratta Perché ho scoperto Delle cose che sono Fuori di testa Ragazzi Ormai Ormai veramente Già lo so Di che cosa si tratta Si tratta che Reali Praticamente Uno c'ha un computer Si fa Un computer fatto bene Insomma Che paga tipo 5-600 euro No 1000 euro Di computer Ci mette dentro le macchine virtuali Fa tanti account Diversi Con tanti IP diversi E sembra che Insomma La gente Poi sta in chat Quindi Ma questo serve Per chi c'ha Pochi views Per chi c'ha tipo Zero views Vorrebbe arrivare Ad avere Quelle 20 persone Fisse in live Che in realtà Non sono reali Però Insomma Comunque Riesce In qualche modo Però Twitch Se ne accorge Lo stesso Accorge lo stesso Perché sempre Che si vede Tramite lo stesso IP Sullo stesso IP Ci stanno Dei metodi Diciamo Deste cose Che io sconsiglio Perché Se voi pure Mandate pure Le pubblicità Siete affiliati Mandate le pubblicità E Twitch Ve becca Con sta cosa Ve banna Ferma Quindi Ve lo sconsiglio Non usate mai Questi tipi di Di metodi È incredibile La merda Che si è creata Intorno a sto mercato Del botting È proprio fuori di testa Ma ci arriverò dopo Mamma mia È una cosa assurda Perché ragazzi Passare da zero spec Ad averne 30 Fissi Ragazzi Vi faccio capire Di cosa sto parlando So che a molti Non interessa Se uno va sotto Qua Scorre 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 Ok Se voi andate a vedere Live Ok Passare Da zero A 15 Spect C'è una marea De persone Una marea Proprio Una marea De persone E quelle 20 persone Che magari Uno riesce A ottenere 20 30 50 Che deve Eh Eh Oh Sono un bot Ragazzi Sono ufficialmente Un bot Ecco Sono arrivato A 20 Passare Ecco Già sto tanto Sotto Sto tanto Sotto Passare Da 20 A zero Cioè C'è Stanno Una marea De persone Quindi Anche quelle 5 6 Persone In più Fanno la differenza Per uno Che è appena Iniziato Appena Iniziato Fanno la differenza Quindi Tanti usano Metodi Assurdi Poi Twitch Nel tempo Ha cambiato Questa cosa Nel senso Sta cercando Di individuare Le varie cose Ma comunque Ragazzi Se volete usare Bot I bot Ragazzi Non li banna Twitch I bot Quelli che usano I bot Non vengono Bannati Però Da quello Che vi dico Io E sono Certo Di questa cosa Che ci metto Il cazzo Sul fuoco Ragazzi Ragazzi Se voi usate Bot Twitch Non vi dice Niente Non vi dice Niente Twitch Non è che vi dice Eh no Noi ti bagniamo Qua No Twitch Non vi banna Twitch vi tratta Come una merda Nel senso Che poi Nel momento in cui Uno c'ha bisogno Di aiuto Twitch non vi calcola Non vi metterà Mai in un page Se un domani Crescerete Non vi aiuta Nel senso Non Non vi aiuta Semplicemente No che vi tratta Come le merda Come se fosse Diciamo Dei delinquenti Ecco Perché uno Ha cercato Di insomma Rubacchiare Perché ti può rubare Sostanzialmente Cercate Avere più visibilità E tutto Per me Rubare Usare botta È la stessa Antica cosa Più meno Secondo me Per come lo vedo io Comunque Partiamo dal No Io ho un altro Tipo di discorso Io sto sul cazzo No sto sul cazzo Sto Diciamo Sono Una persona Molto particolare Per altri motivi Perché bestemmio Dico parolacce Uso un linguaggio Scorretto Mi hanno detto Più volte Guarda Matteo Se tu utilizzi Un linguaggio corretto Noi ti possiamo mettere Però ragazzi Voi ci vedete Come i miei contro te Non dire nemmeno Acce d'erbolina Cavolo Invece che cazzo Usare parole Totalmente Diciamo No ragazzi Non è proprio Nel mio essere Non è proprio Nel mio essere Ragazzi Non bestemmiare Non dire parolacce Non Che ne so Menjampo Dico Ah grazie Gesù Ma porco Dio Se me fa male Che cazzo No Non riesco Non riesco Non riesco Non è una cosa Che posso Che riesco a fare Mi dispiace Quindi Poi c'è stata Una live Molto particolare Per i fan Più Diciamo Una live Particolare Dove Quando ancora Non c'era Nemmeno L'app Stream L'app Sele live Era Un mistero E C'è stata Una live Particolare Dove io Mi sono Connesso Con hangouts Sul telefono E tramite Hangouts Sul pc Ma andavo In diretta Tutto ciò Che facevo Io Col cellulare Cioè nel senso Io col cellulare Andavo in giro E tramite Hangouts Trasmettevo a casa Il segnale È successo Che praticamente Io andavo Per strada In macchina Di notte Che cosa può succedere Di notte Per strada Che cosa ci sta Per strada La notte Immaginate Immaginate Cosa può esserci Per strada Cosa può esserci E quindi ragazzi Dopo quella live Sono andato sul cazzo A tanta tanta gente Da quella live in poi Mi sono fatto terra bruciata Ounque Sia sponsor E non sponsor Adesso Ringrazio Level Up Ringrazio Fantasia E tanti altri sponsor Che Mi stanno dando fiducia Diciamo Quella Terribile esperienza Iniziale Che mi ha segnato Il mio Che ha segnato Il mio canale Il mio Il mio modo Di fare Twitch Diciamo Ormai È un brutto ricordo Tutto lì Ma andiamo avanti Botting Quello Diciamo Di Di Numere Grazie Matteo 523 HP Due mesi Le salve Grazie Un sito online Che vende 750 milioni Purtroppo Twitch non li può far chiudere Purtroppo Esatto Si va Ad acquistare Il servizio Grazie anche a Russo Ivan 100 bit Grande Matteo Te voglio bene Grazie mille Pelo mio Comunque Per chi si sta chiedendo Se me la so chiavata o no No Che era Un'amica Però Ho fatto Credere Alla chat Che Effettivamente Ho fatto una cosa Illecita Comunque Sempre Istigazione A una cosa Illegale E comunque Ragazzi Twitch mi ha bannato E poi Vabbè Con tutto quello Che ne consegue Tutti i vari sponsor Che avevo Ai tempi Mi sono creato Terra bruciata Intorno Ecco Diciamo Però ho continuato Per la mia strada Ringrazio tutto il pubblico Che mi ha dato una mano E tutta Andiamo Andiamo Un attimo Fatemi Quello dici Grazie mille Mezzarco09 Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Della sub Ciao bello Si va a mettere il canale Che sponsor avevo Non posso nemmeno dirlo Non posso dirlo Ve lo dico su telegram Ve lo scrivo su telegram Perché non posso dirlo In live Perché Ci sono state varie Diciamo Conseguenze Anche a livello Diciamo Vabbè Ne ho pagate Tutte le conseguenze Del caso Poi questa azienda Diciamo che Per fortuna È un vecchio ricordo Diciamo Ecco 70 aziende Non vogliono Collaborare con me Anche perché Per questa cosa Per fortuna Ne esistono C'è Un brutto ricordo Di 4 anni fa Di un errore Che ho fatto agli inizi Ok Diciamo Che Mi sono fatto Terra bruciata intorno E Niente Grazie mille A Ninjo TTV Tre mesi Grazie Comunque Non serve nemmeno Che guarda sto video Ve lo dico io Crescere su Twitch Con i bot Non Bottatevi Mai E poi mai Se avete un amico Che c'è una pagina web E volete embeddarvi Ragazzi Non Fatelo Mai 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 Chiedete sempre a Twitch Prima di Prima di fare qualcosa Di testa vostra Perché Ragazzi Questa cosa Vi può portare Diciamo Visibilità all'inizio E vi può portare Vi può portare Grazie Veramente Vi può portare Terra bruciata intorno Quindi se volete Se avete intenzione Di embeddarvi Magari Per far vedere Quel contenuto Per Magari Che cazzo ne so Uno fa una live Vedete gaming C'è un sito Ne cito uno Per esempio Tom's Hardware Che parla di hardware Di gaming E tutto Uno parla di gaming Di un determinato coso E c'ha una puntata Speciale a quello lì Ha chiesto a Twitch E tutto E vuole embeddarsi Può farlo tranquillamente Però ragazzi Non fate come me Che c'avevo un sito Di anime Di anime Film Così C'è c'è stava C'è stava St'amico mio Che c'aveva questo forum Diciamo molto famoso E Mi ha messo lì dentro In embedd Lì in quel In quel sito In quel sito Viaggiavano intorno Le 3-4 mila persone Il numero uno E quindi i miei spettatori Li evitavano Nel tempo Arrivavo a fare Da Da 2-300 persone Pum Picchi di 4 mila persone Arrivavo Con quella Con quel metodo lì Ragazzi Se volete Avevare vita lunga Su Twitch Non fate Ste stronzate Non fatele Io ci ho pagato Le conseguenze Sto ancora chiedendo Scusa a Twitch Di quello che ho fatto In passato Anche se Secondo me Non c'è niente Da chiedere scusa Però Vabbè Insomma Diciamo che Al momento Non è che sto Sì Sto cercando Diciamo Di risolvere Alcune cose Però ecco Diciamo che Ne sto pagando Le conseguenze Di ciò che ho fatto In passato Per fortuna C'è tutti voi Che mi supportate Tutto lì Andiamo avanti Basta pensare Alle cose brutte Grazie mille Aspartaco 100 bit Grazie mille Bellumino Grazie mille Sarunpad 100 bit È buono Sarunpad Ciao bello Grazie mille A Veskid Ciao bellissimo Come stai Veskid Grazie mille Anche a Riccardo 85 Dei 100 bits Grazie mille Piaggi perché Sei vero Regali sorrisi Grazie a te Ma grazie a te Riccardo Grazie Grazie mille a te Grazie mille Sica Antonio Della sub Grazie mille Italian paleale Tre mesi Tre mesi Bellumino Un abbraccio Ciao bello Ciao Tre mesi Re sub Grazie mille Ciao bellissimi Grazie mille a tutti ragazzi Andiamo 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 Siamo una family Anche se ci colpite L'impresa Siamo qui su banco Stai vieni qua Ti divertirai Non scordarlo Siamo una sveglia Tra Tra 30 minuti 35 Tra 37 minuti Va a svegli Grazie mille Grazie mille Grazie mille Tu signora Tu signora Fermati Fermati Porca Porca Madonna Sapete chi è Ninja TV Che prima Mi ha fatto la SAP Impero Grande Ninja Allora Salve 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 Mi fate spari sta macchina per favore Arangione Allora qui su chi è qua? Chi è sta la RS qua? La mia la mia A tua? Ok ok grande Allora Una domanda Una domanda Sì sì Di me Una domanda Allora Leonardo Prova a sapere se potete venire a parlare con te oppure no Leonardo? Sì Ok Aspetta aspetta Di incontrarci al civico Dove? Mui te lo dico io Sì Cinque Può spuntare Questa macchina Ancora Sì Può spuntare Questa arancione? Sì sì Questa qua Perché attende a 10? Civico 191 No aspetta aspetta Ammoci penso io Devo andare a prendere la macchina Ok 191 Vieni con me 10 Ok Ciao S Ehi Come va? Tutto bene? Cici Bello eh Più o meno Che è successo? Eh allora S C'è un problema enorme Avete perso le pistole? No A parte quello che è la cosa minore A parte quello Tu non puoi capire che è successo Abbiamo fatto 5 chili Però 5 chili ci siamo messo un botto per farli Perché venivano sempre quei cazzo di viola I viola a romperci i coglioni Ora io so dove abitano i viola Lo so Perché l'altra volta mi hanno catturato Mi hanno portato là Mi hanno detto guarda Se te serve una mano Tu basta che ci dici Dato che siete nuovi Tu ci dici Quando andate Ti hanno potuto la roba però Eh? Ti hanno potuto la roba però Eh sì sì Però ci hanno detto Io voglio Voglio essere amico vostro Nel senso Noi vogliamo aiutare Quelli più piccoletti Mi hanno detto Ehm Quelli nuovi E io lego la scusa E noi possiamo pure Tu che dici Vado da loro Io sono dove abitano Il problema qual è? Allora tu Io non posso intervenire contro di loro Contro Contro Con Mi allevo insieme a loro Non so se si può fare E vede Rappogliere insieme Sì che si può Però la roba non la dovete portare a me Certo certo che lo porto a te ma certo Eh Gli chiedo No gli chiedo solamente Di non romperli coglioni Quando vado a raccogliere l'erba Perché O l'amnesia Perché veramente A me stanno veramente a tartassare Ogni volta che vado là Sempre i miei uomini Sì Sì Ma tu questa roba che avevi Ce l'hai ancora? Sì sì Ma ce l'ho tutta Ce l'ho Ma l'avete processata pure? No Io voglio arrivare Ho detto Io voglio arrivare A 40 kg non processata Ma è troppo E portamene uno E basta Almeno vi fate qualcosa di soldi Se no non puoi 4.500 4.500 abbiamo De roba non processata Tu me devi far vedere Il punto del processo Eh te l'ho fatto Ah no scusate Allora facciamo una cosa Facciamo una cosa Sì Siccome un incontro importante Tra poco Vai 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 Tranquillo Tranquillo A presto ci sentiamo Ti chiamo io Sì sì Perfetto Sperate che non ci sia la polizia Ho rottuto il po' Tranquillo Tranquillo Tutto bene Bravo Bravo Sì Ciao bello Ci sentiamo dopo Ciao Ti saluta un amico mio Comunque Chi è il Sofì? Lui E Sofì Namo 10 Ok Sta macchina Anzi stracina Quindi Dico che era 1-1 Valenda Come una merda Sta macchina Che te Mi dico ragazzi Che fai? Che fai? E stanno di là In cucina Dove? No Sono finite Quelle Mi sa Come sono finite? Sono finite Un attimo C'ho problemi D'occhi Amore Le pasticche Per la gola? Le pasticche Per la gola Ce l'hai Che pasticche Te serve? Le pasticche Per la gola Ma che è sta risata Da porca? E dove stanno quindi? Eeeh Do sta? Non lo so Do sta Vabbò Sì Stavo a cucciare A meno Se sente un po' meglio E io glielo dico Ok Vieni Vieni A belli Ma come cazzo Se fa Io Ambedi Che bella faccia Un bell'uomo Dai Fratelli Vieni Dieci A me Vieni Amondi No Allacciate forte Che oggi Si drifta Allacciate forte La cintura Se vula Oh 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 Porca Porca puttana Porca puttana Ha fatto la tramba Che buono Che buono Che buono Che buono Che ha fatto portarlo a te vediamo potresti poco bene porco diavolo che botta scusami ma io non c'ho più chitte da riparazione ma ne avevo comprati dieci cinque ne avevo comprati e no sta cosa non va bene senti ce l'hai un po' dei soldi è rimasto a secco in banca ciao che macchina di merda mi piace questa macchina cazzo fra quanto l'hai pagata eh in bitcoin perché mi sono venduto tutto nella vecchia città quanto e quanto è 70 bitcoin porca so ma no pensavamo ai 30 ma vabbè io sto a cercare uno non so se lo conoscete si dice il nome non posso dire un nome però è scusa cazzo è molto grosso è questa persona molto importante cari la bella ma io adesso mai d'armagnolo d'armagnolo che ha fatto che è successo 10 te sento male che è successo purtroppo quindi orca orca puttana non e non e non e direte che dimmi che servina se il pese C'ha detto? Ha detto coglione Ma ha detto coglione No, non mi vale fa gara Senti, mi devi fare un favore Metti un po' al Benny Metti il punto al Benny Però se non lo posso mettere Perché ha messo il suo Fra, l'hai strasciato Non lo posso mettere Il posto del merda Chi ha vinto, cazzo? No, no, mi sono caputato No, 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 non voglio fare No, 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 sei fermata Chi ha vinto tra voi due? Eh, non lo so Scusa, ma poi io ho un piccolo problema Qua con questo negozio Cazzo, ma è tuo negozio De chi è il negozio qua? Cazzo, spostati Sennò non passa, povero Ma voi come vi chiamate? Io sono Mike Mike? Sì Io Ciro Ciro Eh, a Ciro Ah, ma Ciro Ma tu sei quello che c'ha l'autosate? No, no No, non è lui Noi siamo nuovi Ah, nuovi Cazzo C'è, lui è più nuovo Io un po' meno Ah, e tu sì La vado con per lana C'è Cosa? No, niente, niente Vabbè, dai Cazzo, fratello Piacere conoscerti Piacere, piacere Tu come ti chiami? Io mi chiamo Quinto Quinto? Quinto, aspetta Fammi scendere questa moto Porca troia Ah, sì E scendi, cazzo Non rompere Piacere Piacere, piacere Cazzo Eh Ma voi che fate? Che lavoro fate per vivere? Cazzo, per il momento stiamo facendo lavoro di nulla Come sempre Ma state in cerca o volete essere disoccupati a vita? Sì, siamo in cerca Eh, siamo in cerca In cerca Mmm Non so che vi piacerebbe fa Raccogli sui campi Una cosa di bello che fa che ci guadagna, fa guadagnare profitto Mmm, quanto? Eh, boh, qualsiasi cifra, basta che non sia con 5 dollari in tasca Mmm Guarda Eh, 10 Dai un po' il numero tu per favore, dai In caso a questi qua gli facciamo un colloquio se cercano lavoro Aspetta, mi prendi il loro numero Sì, se cercano lavoro e vogliono guadagnare un po' di sordi, dai Ok, 310 Dai, dai, vado a cercare un meccanico, 10 310 310, 606 606 Penso che tu, ok E due E due Sì Ma è possibile Sì, 310, 606, due Sì, 310, 606, due Sì, ma tu mi dici che la signorina Chanel la vuoi sotterrare, fratello Che? Che voglio? No La signorina Chanel Ma tu lo sai che mi ha fatto Chanel? Io ho capito cosa era successo Però si cerca sempre di evitare quello che dico io Poi fai come ti pare, investi a me, investi a Chanel, fate come vi pare Io cerco sempre di usare Sì, non ne volevo investire, io sono investito per un zembicino motivo perché tu mi sei pestato dei botti Sì, ma perché tu mi hai detto che la volevi mettere su tu E io sì perché mo qua io gli do fuoco sul locale mo, prima o poi Se non riesco, se non riesco a parlà A trovare un accordo Stai tranquillo Che c'è 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 c'è, c'è c'è il giovane Ma chi è di questo? Sarve Io sono il nonno di Nadir, dimmi Il nonno chi ti è a Nadir? Il capo officina Ah, ok Ma la c'è del computer? Ma che? Che ce l'è? Il co' dell'officina, e me Azzazzone, guarda un po' qua, i siti I siti hard qua, eh Porca puttana, mi ha beccato Ci manca solo una cosa A me non mi piace questa officina Per un semplicissimo motivo Ci mancano I poster delle donne nude Ci sono, là sotto Dove? Oh, io non lo tocca il telefono, lo toccano gli altri Là sotto, là sotto, ci sono Il bar Vabbè, senti Io vorrei parlare con Nadir Dimmi, dimmi, che gli parlo io Eh no, perché l'altra volta Non mi è piaciuto come mi ha trattato qua Come ti ha trattato? Eh, mi ha fatto una fattura, allora io ho portato qua Un gamaggio, no? Ma vedete come faccio un po' di sconto, invece mi ha fatto Prezzo pieno Non è che me, io sta fattura ancora Io sta fattura ancora ce l'ho qua Che non ho pagato, eh Non c'ho come aiutarti È Nadir il capo Comanda lui Vabbè, andandomi puoi sistemare la macchina, per favore? Sì Qual è? La Ferrari? Ma che Ferrari? Non bestemmia È una Lamborghini È una Lamborghini, scusi Vedi la Ferrari, comunque No Lamborghini regna No La Ferrari? La Ferrari è per le femminucce La Lamborghini è per i maschi No Il contrario Non ci può fare in caccia Non vanno manco le tasche Come no? Trasposto? Ah, te la devo aprire Aspetta, vieni Ho le tasche Vedai questa Bella Bella sta macchina Eh, mi sa che non va proprio La città è lenta L'F5 non va Oh, mi stascio Eh, ma è vero Cazzo, ripeti fra, ripeti, scusa Malax 99 Mi dici, dimmi il codice 3916 Ma M è grande Mi sa che tra poco chiudiamo tutti gli occhi 3916 Sì Eh, anche secondo me Non ho capito, non ho capito Ma, ok Malax 3916 Sì, Malax 99 C'è il blackout, ragazzi Perché? Ma come? Eh, c'è il blackout Perché? Non geteggiare un alieno Torca È una cosa veloce, spero Sì Sì, un caccio C'è la tua maggiore di coda Eh, vabbè Grazie mille, Giuliano Di Vini Io c'ho il saltacoda Eh, che colore è merda, eh Nooo E compro tu, saltacoda Che te frega Dai Eh, ma il problema è che tu preveri quello di domina Io posso sapere un attimo Quello di 400 Scusate, tu con i capelli rossi Sì Un culo Porca puttana, no, mi sono cagato sotto Porco Dio Dai, oddio Pure Brutto, che schifo Grazie mille, Giuliano Di Vini Grazie mille, Sette mesi delle sub Grazie mille, bello mio Grazie mille, Leonardo Manzo Venti Nove mesi Grazie mille Nove mesi delle sub Ciao bello, come stai? Grazie Grazie mille, anche a Gabbo Ruscio Grazie mille, due mesi Muah E a Sosso Asso Fedez 4L Ciao bello mio, come stai? Grazie mille E il Profeta 333 Grazie mille del sub Benvenuti Allora, va bene E andiamo su E' buono, un cioccolatino E' buono, sì Timma e spicca Dai, pure oggi una serata di merda Lagga tutto Anche oggi? Ma quello che mi chiedo io, ragazzi Quello che mi chiedo io Ma può essere che giovano talmente Tante persone su VanQuest Così tante? Un culo Ah, grazie mille Cici, VanQuest Grazie mille che hanno messo VanQuest Sul titolo Aspetta che lo sistemo io Control Esc Un attimo Che cambia un attimo il titolo Lo sistemo io Ci metto VanQuest No, che è in cerca di guai Porca troia Affari di famiglia VanQuest Ma a modo cazzo Mi sono svegliato Sulla madonna Signora Sarve Faccio steffetto alle donne? Ah bella Ah bella Anderè no Eh no E fermate Oh signora Signora La macchina Matte mi dedichi un Sant Zero E puoi salutare Andrea Piretta Grazie bello mio Grazie mille zio Pips Tu fermati Puoi fare un giro con me sulla giostra? Eh ciao YouTube Gabriele Eh domani Bello mio Non penso Non lo so Non penso De fare un play domani Grazie mille zio Pips 100 bits Grazie mille anche a Russo Ivan Lo cioccolatino Ti piace? Grazie mille Leonardo Manzo 29 mesi Come sto? Tutto bene Grazie Chiocci La mette io a Sibonù Grazie Sarum Paddy Ciao bello Eeeh 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 Dai Speriamo che abbiano finito Questi Cosi Cosi Questi riavvisti Problemi Devo andare bene Speriamo che abbiano finito Speriamo che abbiano finito Speriamo che abbiano finito Speriamo che abbiano finito BLE 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 B No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dì a Leo di aspettarmi al 409. Eh, va bene. Anzi, al 401, scusami. 401? 401? Sì, siamo appena abbiamo finito. 401. Ok, ok. Devo aspettare un attimo l'altro meccanico. Senti, non riusciamo a fare una cosa veloce, per favore, mi dai i quattro kit, i cinque kit e via. Madonna. Madonna. Och, ok. Ehi. 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 Mbare Senti Aspè aspè C'ho bisogno C'ho bisogno d'aiuto Come si chiama un divino Non lo so Mi dai una mano tu Mi dai una mano Scrivi giornalino Oppure manda un messaggio a Freddy A chi? Freddy Applicativo Discord Freddy Va bene Ciao ciao Ok Devi da o sei on? Dai almeno lui Divino? Sei indivino? Divino? Vieni qua Sei un divino? Vieni No io no Sì sì grazie Stavo a parlare io con il divino Ah eccolo Eccolo Eh se mi dai Se no mi tocca aspettare Tutta la fila Che arriva uno qua Grazie grazie Te ringrazio Bella Ciao Matteo Ciao ciao Vabbè 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 È importante ok Ciao grazie Ciao 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 Ho fatto fatto freddo Ho fatto fatto freddo Ho fatto Tutto a posto? Sì sì ma dato i kit Sì c'è tranquillo Ok perfetto Avevo parlato con tanti Vabbè se mi dava 500 C'è insomma quelle cose là Con i bitcoin Che cosa? Le macchine? No Aspetta che mi muto la live Va vai tranquillo Vabbè Vabbè Grazie a tutti. 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 Io non ho detto di ucciderlo, ragazzi. Non mi mettete in bocca parole che non ho detto. Oh la porca madonna. Ma va a fa' un c***o. Oh la porca... Yeah, mi piace succhia. Oh, testa di c***o. Porco di... Porco di... Porco di... Toh, sotto di... Porca di... vaffanculo e sugar fate ma te lo dico io porca troia sugar succhiatore grazie mille pietro roxy ciao bello no no perché devo chiamare combare no 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 l'ho chiamato prima l'ho chiamato berlino grazie mille capofezze guarderò solamente per il semplice fatto che voglio la maglietta è tosta ma ci provo grande grande un bacio enorme grazie mille capofezze ma devi vincere pure i pronostici se no qui sia secco è difficile devi guardare 24 su 24 sta qua attivo sul canale ma non è facile ma si è riavviata la città non si può giocare qui c'è però ragazzi scommetto quando daniele gioca a rocchetto che essendo forte è facile vincere i pronostici a comunque guardo anche te un consiglio cambia sugar 9 19 non lo so no 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 come server mi piace però cazzo sti porchi di riavvii guarda è un po' cioè non ti permette di fare niente non ti permette di fare cioè 10 10 mi senti? mi senti 10? 10 10 10 10 non c'ho nemmeno i kit di riparazione immagino porca madonna 10 mi senti? 10 10 10 10 10 eh grazie al cazzo errore mio allora eh senza 10 dove hai? grazie mille ragazzi 10 10 10 10 mi senti? eh sì l'attento l'attento problema mio scusami eh ok eh vieni al meccanico 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 ah si è riavviato il server si vabbè prendi la pistola prendi tutto io vado un attimo al Benny poi arrivo ok 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 va bene va bene va bello si è bello te lo stavo a portare la macchina grazie grazie è che io non c'ho si che non c'hai i kit sono scomparsi di nuovo è un'altra volta i kit è morti e guarda guarda e guarda all'occhio viola non è niente lo so lo so non posso non posso posso guardare l'occhio e lo so lo so però non ce l'ho proprio non so come diritto che devo fa eh grazie 10 volte che ti do non faccio apposta eh se no cioè non so coglione tranquillo grazie ciao 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 un falo matto no no allora leo leonardo vero si monta monta te monta la miseria signore è una bella macchina complimenti le piace la lambo bella bella bel colore anche rosso fiammante bella dobbiamo parlare d'affari va bene andiamo andiamo sono tutto orecchie signore tutto orecchie si come la posso chiamare mi deve chiamare quinto ok va bene quinto un bel nome ma dove ha preso da suo nonno questo nome dalla fregna tesorata signore che protesia facciamo le persone serie ecco ma quanto fa questa macchina signore 300 si sottolinei 300 ma la farà 220 massimo dici eh dico e mo vediamo no no non la testa come dentro fermate eh vai fuori fuori la macchina porco indina vanni piano ti piace 250 si vanni piano che non voglio finire dentro la cassa da moto ok perfetto ok si fa 250 perfetto ma io ho la centenaria zi adesso per me mi fa rire sta macchina vedo che è bravo qui dalle macchine ma la patente dove l'ha presa al mcdonald fai poco lo spiritoso con me che non sai con chi mi scusi è vero ha ragione mi scusi ho esagerato sto esagerando mi scusi ma lei da dove viene signore trolla troppo ragazzi trolla troppo io vengo da da una zona molto lontana da Roma ah ok io invece vengo da Bucharest mi fa piacere che viene da Bucharest si si è bello Bucharest lei l'aveva vista la Bucharest è l'unico Bucharest che vede adesso lo faccio vedere io qual è mi sta facendo paura signore pensavo che era una chiacchierata amichevole scendi allora aspettiamo dieci ah oppure dieci viene dieci puntagli un po' la pistola per favore no ma da che stiamo a parlare ma da che stiamo a parlare perché ammo la pistola che ho fatto domani scusi allora in ginocchio ma io non voglio capire perché a dieci gli hai fatto il mio nome dove hai sentito dove hai sentito il nome del padrone da una ragazza da una ragazza si che dice che è la ragazza tua dice che è la ragazza mia sei sicuro di quello che stai dicendo eh si sono sicuro mi dice che la ragazza su esse fa chiamare padrona io ne so anche perché tanto bene ieri sera l'ho vista anche parlare con dieci vicino a lui stava adesso non so se Emiliano è vero dice che è la mia padrona come confermi dieci è tutto vero quello che dice Leo quello che sta dicendo Leo si si fino adesso ho detto tutto giusto quindi diciamo che questa Emiliano va dicendo in giro che è la mia padrona che è non è che lo sta dicendo in giro cioè l'ha detto solo a me adesso non so se questo come fa a sapere che l'ha detto solo a me ma è una brava ragazza non penso che lo andrebbe dire in giro c'è un problema è che io in questa città ho intenzione di fare cose seriamente eh certo un attimo solo che chiudo la chiamata ok io in questa città ho intenzione di fare cose serie abbassati mettiti giù eh un attimo mi dica il problema è che se ci sta questa persona che sta dicendo cose false su di me insomma va dicendo il mio nome in giro il padrone la padrona queste cose qua io a me non è che mi sta dando bene eh ma perché se la deve prendere con me signore mi scusi se l'ho venuto qua perché avevamo parlato affari non pensavo che mi puntasse una pistola in testa per dire questa cosa io non c'entro niente effettivamente il padrone il problema ehi cosa sto telefono levo il telefono non è colpa mia oh faluono non è colpa mia come te lo devo dire si calmo 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 a me non me lo dici calmo stavo dicendo vedi in base c'è una copro per favore io non me voglio sporcare mani no non ha nulla solamente non ha manco il telefono eh allora capisci ecco ok ok a posto a posto c'è un solo problema padrone il problema è che lui in pratica è andato in giro a chiedere il mio numero di telefono ma io non ho che sono andato in giro a chiedere il numero di telefono con questo mi hai detto ieri che sono andato in giro a chiedere il numero mio eh certo perché la signorina mi aveva detto di dieci allora io ho detto Ezura se lo conosceva non è che lo sono andato a dire in giro poi se lei si inventa le cose è un'altra cosa no poi hai detto ieri che sei andato a chiedere prima dell'annesto un nome a cazzo qua mi hai detto in zona eh po' basta eh po' basta mi hai detto i altri le nomi già mi hai detto in zona mi hai detto il nome dei dieci dimmi un po' come ti chiami come fai il cognome evandri leonardo evandri ti chiami sì va bene chiamiamo in zona vediamo se ti conosci mi chiamo te lo puoi farmi un bagnetto qua sotto che dici ah sì l'importante è che cazzo sarà un bel po' freddo però dai l'importante è che non c'è sta i piragli ah i piragli ah beh tranquilli ho parlato con il zona sì ha detto che non si conosce impossibile è impossibile impossibile lo vogliamo chiamare lo facciamo venire qua chiamalo tu allora chiamalo vai eh non c'ho il telefono se me lo presta senti tu che cosa avresti in mente di fare con me ah io sì io quello che ho in mente di fare era già avevo già chiare l'idea dall'inizio io volevo aiutare volevo far crescere aiutare cioè volevi far crescere cosa ma chi è qui su aspetta 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 chi è qui su chi è qui su chi è spara spara gli è spara gli è e spara gli è è scappato è scappato si ma porca troia ma chi è è un random è un random non pensante ok ok ma io come avevo detto anche a dieci sei venuto qui per aiutare per 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 reclutare per reclutare ha chiesto che voleva ingrandire la gang è venuto qua mi ha detto la tua gang la tua gang no no la sua la tua la tua gang non la mia la tua allora e allora dimmi allora visto tu hai detto hai appena affermato ho visto che ne eravate pochi allora dove hai visto come hai fatto a vedere dove hai visto sono andato da loro ne erano solo tre e ho visto che ne eravate pochi e gli altri non mi devono essere pure città ho capito ma da quello che ho visto io ne eravate pochi di solito quando si parla con una persona cioè se c'è stai in tutti per parlare con una persona ho fatto una presupposizione non ho detto effettivamente che ne eravate così io ho detto vedo che ne eravate pochi poi dopo tu potevi chiedermi chi te l'ha detto che eravano pochi tu non mi hai dato una risposta quindi ho detto allora vorrei aiutare a farvi crescere eh ok ma tu vieni da me dici non vengo da te io sono andato da lui a parlare con lui e poi parla con te che lui non c'entra un cazzo in tutto questo te se il capo non è che lui prende le decisioni per te io sono il capo ma 10 è come se fosse un fratello per me ah ottimo non prendo comunque le decisioni lo stesso per fortuna però signor Leo Leonardo Evandri devi capire che con me non si scherza ma lo so ma lo so già dal principio però raggiungo una cosa vediamo se lui si ricorda ti ricordi ieri quando mi hai chiamato e mi hai detto che vendevi delle bare ti ricordi? sì 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 sentiamo una persona uno sconosciuto mi chiama mi dice che vende delle bare che ci dobbiamo vedere tu come la prendi? io penso nella mia testa che mi vuoi ammazzare giusto? o no? allora a posto mi riattaccavi non mi rispondevi più che sta pagiacciando allora? aspetta un attimo dieci perché volevi vendere delle bare? lui voleva vendere delle bare era una scusa per incontrarci ah tu chiami uno così random eh ti voglio vendere bare vabbè scusa ma tu non ce l'hai un numero di telefono che nemmeno conosci che lo chiami? no no non c'è nessuno cioè uno ti dà un numero di telefono e tu non lo chiami eh lo chiamo però non è che gli dico guarda ti voglio vendere delle bare da morto ho capito guarda ti voglio vendere un prodotto no non mi interessa chiudo la chiamata sì funziona e allora io voglio vendere una bare è un prodotto eh ok ma è un po' strana come cosa ma non vuoi chiamare così è un momento all'altro perché come uno ti può chiamare per vendere una pistola uno ti può vendere in manino io ti dico vendere una vara tu mi hai chiamato e mi hai detto ciao tu sei eh sperma fammi guarda tu mi hai chiamato e mi hai detto ciao sei dieci giusto e io ho detto no sì sì sei dieci a un certo punto mi hai detto io vendo delle bare questo che cazzo vuol dire vuol dire che mi conosci sai quello che faccio e che vuoi ammazzare quella mia testa questo vabbè mamma a parte quello che è successo non è successo dai lasciamo perdere mi dici per favore che cosa vuoi da me io l'ho già detto pure prima se vuoi te lo ripeto ma se è questo il problema lasciamo ognuno per le strade proprie io non mi interessa proprio dimmi dimmi che cosa vorresti fare come il tuo progetto io l'ho detto ho detto quello che voglio fare io l'ho detto ho detto che sarei venuto a dare una mano sarei venuto a dare una mano a far reclutare altra gente per crescere poi se questo non è di vostro gradimento io non me ne importa niente ognuno per la propria strada io non vi conosco finito a me non mi servono persone da reclutare a me mi servono persone sui campi ecco vedi già è sbagliata la tua idea la tua idea nel senso che già tu vorresti mettere le mani avanti tu vorresti mettere già le mani avanti dicendo che già vorresti darmi una mano qua e là ma senza sapere cos'è che mi serve senza aver mai parlato con me è un po' strano tu non puoi andare da una persona così di un certo rilievo se così si può dire perché io sono qui da poco in questa città che fa giri diciamo illegali che rischia la vita rischia la galera rischia rischia tutto non puoi andare così in giro contattando gente persone random io con questa ragazza io adesso ci parlo io adesso la chiamo subito questa vabbè chiamola la chiamo ti faccio vedere io che cosa cazzo succede che cosa cazzo succede che cosa cazzo succede dai i mati allora lo partiamo allora signor Leo questa Emily Emily non mi risponde mandami messaggi per favore mandami messaggi Emily non mi risponde io non voglio né ucciderti né farti del male però diciamo che ci siamo visti in faccia quindi te sai più o meno quello che faccio che non faccio non so da parte di chi io ora non è che voglio farti chiudere gli occhi per sempre però diciamo che diciamo che non mi piace questa cosa che insomma ci sono altre persone che sanno troppe cose di me dove sto dove non sto spiegami una cosa tu che cosa vorresti fare quindi tu vorresti lavorare per me sui campi o vorresti o vorresti reclutare gente oppure addirittura avere una tua gang fare una tua gang e collaborare con me questo io voglio sapere allora quello che eh ho detto fino adesso è che io vorrei aiutare vorrei aiutare non vorrei stare tutto il giorno dentro il mezzo di gambi e raccogli non so vorrei aiutare a fare tutto ok te sei il padrone e comandi tutti gli altri o quinto scusami quinto te sei quinto comandi tutti gli altri ovviamente non è che posso stare a passare tutto il giorno davanti a dentro i campi della Maria eccetera vorrei fare anche altro ecco però se il problema è questo signore a me è quinto scusi non è un problema io e andiamo ognuno per le sue strade se lei mi vuole uccidere perché l'ho vista in faccia la capisco se no ognuno per le proprie strade io faccio io non l'ho vista mai cancello il numero di sia di dieci che di qualsiasi altra persona e basta ognuno per la propria strada non è un problema cioè per me poi se per lei è un problema è differente questa cosa ma tu hai già la tua gang lavori per altri? non ho niente non lavoro per nessuno io sono da solo in città io al momento sto cercando solamente persone che lavorano sui campi non sto cercando persone per reclutare vorrei avere meno persone possibili ma di qualità che persone che entrano random mi possono infamare quindi va bene allora ci possiamo mi tengo in contatto con dieci e poi vediamo non esiste il poi vediamo devi decidere ora o decidi ora o stai con me quindi perché ormai hai visto tutto quindi o ti devo uccidere ti do da una droga per non farti ricordare nulla che fai? giù non c'è l'altro non c'è l'altro non c'è l'altro ah in gelare è solo ok quindi o ti devo o ti devo uccidere oppure stai dentro la gang però vai a lavorare i campi come tutti gli altri decidi tu non ti voglio né cremare né né buttare dentro l'acido non ti voglio fare niente di tutto tranquillo ti voglio solamente far capire che che qua non si scherza e qua il mio nome non si deve fare né in giro né in altre parti andrò a parlare con questa Emily perché insomma questa Emily mi sta dando parecchi problemi se vai in giro a dire cose su di me tu che dici 10? sì sì questa Emily è un problema enorme e semplicemente adesso ti do una pasticca una droga che non ti fa ricordare nulla eh non si può purtroppo come no esiste esiste no no è invitato dalla Bibbia dalla Bibbia non si può non si può no purtroppo no che è che non si può da regolamento cosa? dare una pasticca per dimenticare quindi lui si ricorda da tutto? no si spremono ovviamente non lo uccido lo offrisco no non ho capito non lo devo offrire farire purtroppo che me spara mi spara sulla testa io poi mi risveglierò all'esperienza e non si ricorderà nulla e non mi ricordo e non si ricorda nulla eh beh una pasticca non si può di una pasticca non c'è stato per far un po' di scema per far un po' di scena non si può fare la pasticca quindi non posso quindi non ci posso entrare quindi quello che mi stai dicendo si è sparato quindi non ci posso più entrare allora se la tua intenzione è lavorare sui campi fare rapine cose del genere ci può stare ma se vuoi reclutare gente fare le mie veici insomma trovarmi persone ad essere sinistra quello no perché già ci pensiamo io e dieci tutto il giorno costantemente vero dieci? sì giusto quindi decidi tu se vuoi lavorare seriamente sui campi insieme agli altri per me non ci sono non ci sono problemi io ti posso assicurare nella mia azienda Vitto è alloggio assicurato ma che vuoi dire Vitto è alloggio assicurato signore in questa città tutti hanno una casa pure io ho una casa io te l'ho detto accetto ma non mi interessa Vitto alloggio l'importante è che facciamo le cose che bisogna fare adesso non facciamo queste bagiacciate del Vitto alloggio non mi voglio non mi voglio nemmeno sporcare le mani dieci possiamo io l'ho detto io posso tranquillamente venire a lavorare nei gambi ma basta venito non è un problema quindi vorresti lavorare per me sì o contro di me perché se vuoi lavorare per me ma che come contro ma di chi stiamo parlando va bene sì accetto accetto accetti sì ok cosa fondamentale quanto c'hai lungo il cazzo undici e mezzo è al limite alzati un po' levati un po' i pantaloni io qua vedo una protuberanza bella grossa pure io vedo che fai uso di carta igienica per far sembrare il cazzo più grosso tutti i giorni che schifo va bene va bene la carta igienica non è che mi piace tanto però volendo possiamo metterci d'accordo allora facciamo così tu fai parte d'ora in poi tu farei parte della mia gang della mia famiglia però Leonardo io te lo dico prova a infamarmi e a dire il mio nome in giro che lavori per il padrone lavori per quinto tutto ciò che ha fatto quella Emily non deve mai più succedere ok ok va bene va bene padrone va bene padrone ok e scarpe rosse mi raccomando scarpe rosse per lavorare sui campi mi raccomando non parlare di droga in città mai anzi se vedi qualche nostro fratello qualche nostro persona nella gang che parla di droga in giro mi raccomando fammelo sapere che lo caccio subito gli sparo in testa va bene va bene altra roba ti stavo dicendo se ti serve cibo e acqua puoi venire a casa nostra cibo e acqua però per il momento essendo che sei nuovo non ti possiamo dare le chiavi non te le voglio dare io ok va bene e per il resto ti mettiamo alla prova per una settimana tu che dici dieci va bene va bene sai sparare? sì adesso non posso perfetto noi ti possiamo procurare le armi a un prezzo molto diciamo economico quanto le paghi tu le armi? no non le uso io no? no allora va bene dai non è un problema si raccoglie tutti i giorni vero dieci? tutti i giorni due orette al giorno di raccolta due orette mi raccomando devi starci se no non ti pago perché se tu entri in città stai venti minuti mezz'ora non ti pago perché mi sembra più che corretto che insomma le persone che sono più produttive vengono più pagate o sbaglio? dieci giusto più produci più ti paghiamo normale esatto dieci l'ha detto ai campi terra d'occhio tutto quanto tutti quanti i movimenti sui campi chi è più produttivo chi è meno produttivo tutto chiaro? sì 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 e se proverai solamente una volta a infarmarmi a dire il mio nome in giro perché altri già già hanno provato in passato farai una brutta fine signor Leonardo va bene e non provarci a mettermi i bastoni tra le ruote e infamarmi perché gli infami sai che fine fanno li butto la timba della montagna guarda vieni vieni ti faccio vedere che fine fanno puntalo puntalo tienilo puntato vieni vieni signor Leo venga alza le mani quando cammini vieni qua sotto quanto è alto sì sì è altissimo tutti quelli che insomma non mi rispettano e fanno il mio nome in giro fanno i furbetti oppure certi che tipo hanno si sono messi in proprio di un po' 10 sì sì ci sono state persone che si sono volute mettere in proprio e infamarmi oppure semplicemente hanno voluto iniziare a lavorare per altre gang sai che fine hanno fatto sono finite sotto nel dirubo quindi bello mio con me non si scherza e non ci sono più svegliato va bene va bene ok perfetto quindi per il resto va bene fai parte della mia della mia gang benvenuto grazie benvenuto in famiglia 10 scambiatevi i numeri tu signor Leo signor Leo per me diventerai il dipendente numero fammi un attimo controllare 7 7 dipendente 7 mi dia il suo numero signor Leo non ha il telefono ok glielo dai tu 10 per favore il mio numero ce l'ha ce l'ho vuole il telefono no ma meglio che il numero non è importato va tranquillo va tranquillo poi il numero ci penseremo più avanti non è un problema il suo numero comunque no non c'è un telefono non c'è niente non so no glielo do io al padrone insomma va bene allora 5 5 5 e padrone padrone si allora 5 5 4 4 4 4 8 7 3 dipendendo da 10 7 scusa 7 7 va bene ok possiamo andare perfetto i campi di raccolta i campi di raccolta gli fai vedere tu a al dipendente 7 la raccolta della raccolta gli fai vedere tu a 7 si si i campi di raccolta queste cose qui si si ok e tienilo sotto d'occhio eh mi raccomando per una settimana appena fa uno sgarro appena fa un minimo sgarro glielo dico esatto me lo dica e lo mettiamo lo mettiamo a tacere subito ci stavo oltretutto magari deve stare un po' più attento a quello che dice perché ovviamente se vai in giro a dire certe cose è un po' pericoloso però lo faccio ricordare io che deve stare ora ci serve sapere solamente il punto del processo oh porca purtana porca troia vabbè facciamo finta di niente tranquillo tranquillo non è successo non è successo niente un po' di power game ci sta indirando si si perché mi fa mettere le ruote sportive sta macchina le ruote della strada la strada bennaggia ragazzozza allora adesso dobbiamo andare all'altra parte allora il colloquio l'abbiamo fatto con con Leo ti ricordi dove sta San Basilio certo metti un po' al punto se puoi si si ok dobbiamo andare a San Basilio adesso andiamo un momento che controllo un attimo le notifiche grazie mille Demi che dice in dieci mesi grazie quando giochi a Quirinale destra ma ieri ci ho giocato Demi ciao bello grazie mille un po' c'è l'orme grazie mille anche a Fritz quattro mesi di resab grazie mille grazie mille Giazzo83 grazie mille sette mesi delle sub grazie oddio ok qua mi si è spento il cellulare devo andare a svegliare a donna arrivo ok grazie mille Bettino grazie 100 bit grazie mille grazie mille anche a speedy che fa cosi un po' c'è l'orme quattro mesi quattro mesi delle sub te voglio bene cazzo grazie mille un bacione enorme ciao grazie grazie mille per mio grazie mille capofex ciao bello grazie mille di 100 bit scommetto quando ieri esatto scommetti lì che i punti vedrai che li farai grazie mille Gabriele Lerme sei mesi un bacione enorme Pietro Rocks due mesi Emanuele 31 NT grazie mille per mio allora raga grazie mille anche a 10x gaming 15 mesi grazie per mio arrivo raga vado a chiamare donna e ci sono donne vabbè è in coda comunque Alex il 7 il 7 ora lo faccio vestire sì dai vabbè aspetta che viene Alex e poi do direttiva a spennsegondina zio dopo questo scorso diamo aspetta che avanti a l'an o' l'an o' l'an 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 Grazie a tutti. Ok, eccoci. Eh, donne, dormi. Ok, eccoci. Andiamo? Ok, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Grazie mille, Sux Simo, grazie mille, quattro mesi, un bacio enorme. Ok. Senti come rompia sta macchina. Minchia se rompia. O ne. Comunque, i vestiti che abbiamo messo le piacciono. Vestiti? I nostri vestiti, sì. Ma sì, tutto nero, scappe rosse. Sì, sì, mi piace. I vestiti tutti così, penso che va bene. Sì, sì. Eh, qua abbiamo un problema, qua. E' un problema, eh. Però c'è la pistola, c'è la pistola addosso. Non vorrei che ci la piscano. La lascio la pistola o la posso? Ciao, sono quinto, quello che vede l'altro giorno che avevo parlato con... Oh, piano, 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 piano. Ho capito, aspetta, aspetta, aspetta. Piano, 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 piano. Ho capito, che è? Ho capito, che è? Ho capito, che è? Oh, no, è lui sì, però, perché si è scordato di togliere la pistola. Scendi dalla macchina. Dieci, è il mio soggio. Smontala, smontala, per favore. Smontala l'arma e potete trarre. Smontala, smontala, smontala. Sì, 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 karma, 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 karma. No, 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 per favore a montare. Eh, volevo parlare con Enne. Muscoletto e fisico. Venga, venga, venga. E smontilarmi. Posso venire con la macchina mia? Sì, venga, venga, venga. Senza... Perfetto. Grazie. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, monta. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Non lo so, è l'aria dei città che mi fa amare la destra Ok Andiamo, andiamo È a posto ragazzi, è quinto K, K, è a posto È quinto Prego, scenda Salve Faccia vedere i piramidi, ragazzi Ci dite minuti che sta entrando N, va bene? Abbassate le mani, ragazzi Sono già conosciuti, se ne amici Ho una pistola, però è smontata Abbassate le mani Tutto a posto, ragazzi Sì, sì, tutto a posto, tutto a posto Ragazzi, fatela... Dovete parlare con N? Eh sì, volevo parlare io con N Che c'ho grossi problemi Che è successo? Eh, sui campi, c'ho grossi problemi Ok Vabbè, puoi parlare con me Mi hai fatto un po' sapere Per cosa? Posso parlare con te? Sì, sì È quale, ho con me e ho con lui Eh no, niente Praticamente io vorrei Diciamo Un po' più di protezione Perché i miei uomini Mi hanno detto che voi Ogni volta andate sui... Ogni volta voi, viola, andate sui campi E li ammazzate sempre Io volevo riuscire Insomma, in qualche modo A riuscire a... Insomma A contrattare con voi Ecco Io ho sentito anche per la gente con cui lavoro io Mi ha detto Guarda Basta che la roba la vendi a noi Però io gli ho detto niente Però io vorrei pure Insomma Se... Se voi mi garantite più sicurezza Io lavoro per voi Invece che per loro Gli dico semplicemente Guarda Faccio altro nella vita E basta Se è possibile Non lo so Se è possibile farlo Non lo so Oppure... Boh Non capito Vabbè Ehm Tutto qua Oppure semplicemente Trova un accordo De pace Non lo so Allora Mi importa Sì Sì Dimmi Fanno tu questi campi? Sì Fanno tu questi campi? Vanno tu questi campi? Vanno un messaggio a qualcuno A me ho detto Non è il problema Sì Ma come se magari Voi si diventa in 3 In 4 No in 6 In 6 In 6 Ok Aspetti caso qualcuno Mi rompe a pocazione le palle Nel tragitto di dopo Raraccolto durante Se magari Hai quel tempo Di mandare un messaggio Magari ti manda qualcuno di me Magari No Sono proprio i tuoi Odio scusami No I miei No i miei 10 Di e bo Sì in pratica l'altro giorno Stavamo raccogliendo Ehm Io stavo da vedetta Ah poi raga Come voi sapete Cioè Sti campi purtroppo Non ce ne sono di amici Eh no Non lo so Ma voi fate il vostro lavoro Cioè Non potevate sapere nemmeno Che eravamo noi Ecco Esatto E quindi Io ho visto un paio di volte Derratti Ecco Posso fare una domanda Quinto? Vai vai Dimmi tutto Ma voi come vi riconosciete? Avete un colore in comune? Scarpe rosse Le scarpe rosse Eh io sti campi da sopra la montagna Vedo le scarpe Eh Al massimo vedete le persone E' anche la luce E' un problema Dobbiamo scegliere colore Di un outfit in comune Eh fate non lo so Tipo io vi posso incendiare Magari tutto il Non lo so Il colore Perché i rossi I rossi già esistono Eh ce ne sanno tanti di colori Ma ci occupate Io vi dico Lo so tipo Wow C'è sta un colore che non è occupato Blu scuro No Il giallo sono No Non c'è giallo Non c'è giallo No no Da quello che ricordo io Ci sono le bandane gialli Verde Verde? Verde c'è Verde c'è Verde c'è Verde c'è Verde militare Verde c'è Verde c'è Eeeh Niente Romani abbiamo incontrato Siamo Ma sei neri no I neri ci sono Eh Polizia Ci stanno anche neri Polizia quindi è peggio Ci posso mettere la vestaglietta gialla tipo le cinese Mhm Gli arancioni Ci stanno Ci stanno Grigi Marroni Ci stanno anche morrone Si stanno Tutti ci stanno Al club Che merda Mi consiglio tipo qualcuno sul bel Ehm No no non c'è Però solo militare verde c'è Gli azzurri Ci stanno Bianchi Ci stanno Ci stanno Tutti i colori Mi piuttosto che puntare tipo al Colore C'è puntata a qualcosa di meno militare Forse più elegante Magari vi confondo Mi resto come puoi Eh sì A posto Eh così dopo Invece di magari essere rapito qualcuno E' dorati? E' dorati Ehm Non penso che ci stani Dorati E' un bel colore dorati Eh sì Come robe E' questi titolini? Oh brava Ehm Mi ricordo qualcosa questi titolini eh? Eh io Eh lo facevo sempre I giochi del ruolo con la signorita Vaci Guardi quinto abbiamo gli stessi capelli quinto E' altrimenti E' altrimenti E' altrimenti Oppure una maglietta di una squadra di calcio Eh sì Eh anche Lei che squadra ti fa quinto? E' dopo vado a vedere Io? Io non ti fa squadre Ah non ti fa squadre? No Basta che la mette quella della Juventus No no Io la Juventus no Non tifo Io tifo solo una cosa Cosa tifo? L'amnesia E' la marivana Solo quello Solo quella squadra mi piace Il fucsia Fucsia c'è? Ma cos'è l'amnesia quinto? Cos'è l'amnesia quinto? Eh fucsia e rosa L'amnesia Ma quinto non vuoi far sapere dell'amnesia? Come no? Eh sì che lo so Ma cos'è l'amnesia quinto? E' una droga eh E dove si trova? E dove si trova? Al... 30 26 Oh ma... C'è già stato quinto qua che mi ha detto che... Si si ce l'ha detto Ce l'ha detto uno ce l'ha detto Chissà signora... Mi sentite? Mettila masca Mi chiesto signore Ehm... Quinto! N! Quinto! Il male quinto come stai? Bene bene come stai? Da posto? Si si? Che hai fatto la faccia? Hai messo qualche crema? No è che gli occhiali qualcuno ma ad un cazzotto E' so perso gli occhiali dopo li vado a ricomprare Come stai bello mio che è successo? Io non so appena arrivato Eh che è successo? Sti cazzo di viola Sempre viola Siamo tutti viola Eh lo so Sempre voi Non manca altri viola Dopo ne parliamo Vabbè tutti sti viola Tutti viola che vengono sui gambi a rompecere palle ogni volta Non riusciamo mai a raccogliere niente Di un po' 10 Ma su quale campi sta andando quindi? Amnesia Amnesia Lavoro per questo S Ci ha dato i cambi dell'amnesia Purtroppo noi andiamo là In 6-7 a raccogliere E poi Se c'è subito Posso dire una cosa Tu che ora arrivai sui gambi più o meno? Eh 10 E noi che andiamo Guarda dalle 4 alle 6 e mezza 7 Ha più che altro alle 6 e mezza E' tipo fammi un esempio tipo quante volte vanno asfaltato? Ehm Guarda ieri solo ieri 3 e 4 3 e 4 3 e 4 Guarda noi 3 e 4 Beh scommetto che ovviamente avete perso Vi sono andati in pochi no? Guarda a quello che mi ricordo io 3 e 4 Poi il resto non lo so Mmm Ora Io già sto problema Io posso anche lavorare per te Posso lavorare per te Posso quello che ti pare Però La roba Io Ormai ho preso accordi con questo qua C'ho paura che questo qua poi mi fa chiudere l'occhio per sempre Tutti mi fa Ah boh no se siamo una protezione no Comunque possiamo fare un'altra cosa quindi se vuoi Ma eh Visto che tu hai già preso accordi con una persona Quindi effettivamente lui si potrebbe vendicare con te Veramente buttandoli sottoterra ok? Perché lo può fare Se tu fai un accordo Quello che possiamo fare noi E' che tu continui l'accordo con questa persona Però ci dici gli orari in cui vai i campi a noi Ti devono percentuali della roba Esatto Ti faccio un esempio Tu raccogli mille pezzi ok? Sì Se noi ti proteggiamo e ti avvisiamo che viene qualcuno Tu ci dai il 20% della roba a noi Tipo Faccio un esempio Ci potrebbe stare Tu che dici? Sì sì ci sta ci sta Io lo faccio per aiutarvi ragazzi Perché noi sui campi noi ci andiamo capito? Però comunque vieni qua al gruppo sempre ormai Sì in amico si può dire quindi non è un problema Cioè se ti serve questo tipo di aiuto non è un problema Va bene bene Porto il 20% del raccolto e... Ma vuoi il 20% dei soldi o la roba lavorata? No 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 della roba non lavorata Se no ci perdi troppo Solo il raccolto capito? Ah solo il raccolto ok Eh sì se no ti affondo Dentro un camaggio quanto la roba c'entra? Non c'è bisogno del camaggio Perché attualmente c'è un problema con i bagagliari Quindi te la potete tranquillamente nello zainetto Ah ok ok Capito come? Sì sì ho capito capito Io da domani sono operativo Stasera sono un attimo impegnato Quindi se vuoi da domani Una domanda io con un attimo Perché sono io quello che vado a quella fine Eh allora devi fare due cose Sì O usi questo bel telefonino qua E mi mandi un'email a me sull'applicativo Discordia E ci organizziamo per bene e li capisci a me Sì sì O altrimenti dobbiamo fare un metodo Che qui non è fattibile Ovvero usare le Darkshot Ma io la Darkshot Ah non c'è la Darkshot C'è 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 sì C'è Ma funzionano Eh sì Ok allora creamola insieme Crea una Darkshot Io vedo tutto bianco sul celore No no nella mano io Quindi Vai sul telefono Vai sul telefono E vai sulla sezione Darkshot No vedo tutto bianco No Devi cambiare sfondo Ah no problemi di città No no Anca a me era ieri Cos'è non devi cambiare sfondo Quindi Come faccio E andare a estinto estinto da per il telefono a poi non ha prescendi giù di uno sotto si e muscolino invio poi di un altro sotto se e poi vai di uno sotto a prima invio per un po niente non va niente e va buco la aiutiamo un altro vabbè poi dopo lo fanno dai allora fanno tutti sopra un quinto di mio nome per la darchi ottimentano 99 90 cito a lettere a numero a lettere a lettere a lettere ok quindi 90 mai tutto piccola tra il numero tutto piccolo ok adesso tu fai un muscolo freccetta di destra ne scegli che ci dovrebbe dire entra in una darchi a crea una darchi a tu vedi un po ma sono i valtele prima come no no sto parlando con l'amico io e qui bravissima vediamo ma come fate sapere che sono io e no ad essere scritto tu salve giusto sì ok ti faccio vedere come funziona mi raccomando quindi ascolta pure tu sì sì sulla dark chat tu scrivi solamente questo modo che ti capiscono non possono avere collegamenti guarda quello che scrivo io beggi r 20 ma 50 che significhe sono raccolta torsi a questo mi fa capire che tu sei sulla raccolta amnesia alle 22 50 se hai il problema che qualcuno ti sta saltando vedi cose strane scrivi questo questo qua il nostro codice cuore nero dal momento che tu scrivi cuore nero io so che a un mio fra virgolette perché non lo siete un mio amico barra sottogruppo c'è un problema lì alle 22 50 capito quindi cuore nero per problemi cuore nero per problemi se vuoi fare un check scrivi check se vai a una raccolta dici r a 22 50 metti caso nel processo fai p a 22 50 è facile questo è come lavoriamo noi capito liberate la chat mod che cazzo è già da un esame se ti rapiscono non possono fare nulla perché tutti quanto la puoi giocare come voi r a vuol dire a apple di te che ne so qualsiasi cosa roma roma ascoli 22 50 qual è il problema sta vedendo in film c'è capisciata ma roma può sembrare qualsiasi cosa capito non è perfetto perfetto posto altre cose che altre cose che ti posso consigliare io non so come lavorato ok chi gestisce poi i campi cioè gruppo gli amici o andate lì con qualcuno che vi dice cosa fare no 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 diciamo che tra noi ma punto e bravo a quinto e presentato sta raccolta amministra dopo dove sta il cosa a terra che si raccoglie se noi quanti anni quanti andata al campo 67 quando c'è andate perché ci pensa 10 perché io ero no no le mani può andare in otto vabbè comunque se vai metti caso deve andare minimo in quattro ok 2 a raccogliere due vedette ricordati che per assurdo quando non puoi permetterti di sparare sarebbero più vedette e meno la che raccolgono capito metti una ventura per i rossi signati questa cosa che ti sto dicendo e allora ascolta mi devi far mettere una vedetta al 3026 una vedetta al 3025 una vedetta al 3022 ok 3025 sul tetto 3026 dietro i campi 3022 sulla spiaggia se tu hai queste tre vedette almeno che non dormono con la sista in bocca avvisano agli altri scatti di strada no dietro i campi 3026 devi farla devi farla di farla mettere sulla strada c'è una dunetta sulla strada bene sono 500 mila dollari per la lezione a e chi c'era da scelta di chi era per i vestiti non è la presto un attimo non è quinto notte per i vestiti come restiamo no è festa del capito scusa il capottana ma che cazzo della piano scusa muscoli per i vestiti mettiamo non lo so rosso sopra il nero sotto dico vabbè sì mi sono una cosa vostra ragazzi si era venuto vediamo i colori quelli che chiesto ma chiede che che vabbè ma si ma li ha bentornato accelato stai amore mio axel ecco come cucina tana d'amore 2 è tornato c'è un pezzo del merda diverso come sto dicendo quinto vi va sicuramente meglio grazie mille beh speriamo di che tu che ne pensi 10 il 20 per cento potrebbe essere una percentuale giusta riusciamo a scendere quando ne abbiamo fatta e quindi rimaniamo convente vedo io una mano in tutto capisci mi dico un po come si fanno alcune cose ok 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 ma poi la venda a te per me la puoi vendere pure a me però se tu c'è il tuo contatto che si incazza vendila lui no no la venda lui che è meglio te lo solamente la roba non raffinata a te e poi 20 per cento non consiglio non andare in questi orari non c'è andare fedele no meglio di no no ma si pazza che se l'orario più caldo devi andare pomeriggio pomeriggio vabbè voi ci state pomeriggio no 10 i miei sì 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 ok ok pomeriggio così almeno non ci rompe le palle nessuno riusciamo a fare tutta la droga che ci pare a voi arriva la notifica poi un altro consiglio che ti sto dando un altro consiglio non superare mai e dico mai i mille barra 1500 pezzi ma che ne che non fai 4.000 stella fanno meno però te ne vai fanno i mille e tenevai per di non mettere 50 circa tu devi considerare che ogni 3.000 pezzi fa un chilo con un chilo su soldi la mese hanno pagato un botto si sia una volta pagano a me non me me la pagano tipo 600 ma se poco no è buono e le pistole a corte le fanno le pistole e pistole e pistole vabbè un prezzo che è qua i portelli o no 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 ai definiti e vabbè pistole che pistole già dato un'altra volta 90 metri questo po che c'è addosso ho visto la notte l'ha fatta pagare e vabbè ce ne fa intorno le 100 k 100 k 9 minima le 9 cc 9 c'è una lega ma si pazzi ma sporchi o puliti ma no ma che cazzo dita 9 mm di quinto costa 50.000 ponte pasca 50 e la calembre 50 quanto la pagina e non lo so ma non è che stiamo qua parla d'affari e sapere entrato in città non lo so io pagavo una cappa due milioni e mezzo su un'altra città io non lo so quanto costa boh non lo so secondo me fatti di valutare il prezzo del nord cc ovviamente non ci mettermi a mezzo che abbiamo detto no 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 l'amnesia quanto viene pagata di solito è il tuo prezzo giusto il tuo prezzo è giusto è giusto tu quando quando la fai siamo l'assimo la 600 sì sì ma finiti sto dicendo che giusto giusto ok non posso dire preciso se tu mi dai lo stesso prezzo io posso pure parlarci con questi guardi no 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 non posso il prezzo giusto non posso proprio tra pagano pure fin troppo bene vabbè stavo scherzando non la paga 600 perché speravo di trovato ma in una bella perché sono un commerciante nato speravo di trovare qualcuno che me la pagasse di più no non tra pagano se c'è infatti mi pareva strano 4 e 50 4 e 50 4 e 50 se un giorno decidi di portarla da merito 4 70 avemo per vendi non è che mi spendo però si farebbe al pezzo farebbe al pezzo per 3.000 pezzi ma sono quei ragazzi l'arri potrebbero darci problemi a me dici solamente come se sono questi di che coloro dice a me non ho capito scusa di che colore si vestono questi questi ragazzi così di nero con le scarpe rosse vanno un giubbotto rosso non lo so sì 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 ma poi ci capito a posto va bene va bene allora guarda io ti ringrazio ci ringrazio ci ringrazio ci vediamo la prossima va bene ciao bello ciao 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 ma Ma una cosa, poi arriva la notizia, giusto? Cosa? Dovete entrare nel carro No, ci arriva sempre, non troppo Arrivederci 15, andiamo, 10 Senti, viste Arrivederci Perfetto, padrone, perfetto Allora, abbiamo La sicurezza dei campi Sì Da parte dei violosi Sì, sì, e beh, 20% mi sembra Più che ragione Stai seguendo la polizia, porca mignot Ah, sì, e beh, falla segui, falla segui Bella la Ferrari Te piace? Vai punto, vai punto Andiamo a metà posta Andiamo a posarlo, va bene che la mettiamo Sì, si, metti bo' il punto su 7,15 Sì, sì Un bacio enorme, grazie Grazie mille anche a XBugK Tre mesi È buono Grazie mille anche a YokoPoku 100 bit Ma te fai decidere a noi le divise Ne scegliamo qualcuna E poi Le fai votare Ti piace come te? Sì, però bisogna avere quelli disponibili Perché non so quali sono disponibili Grazie mille Anonymous Per aver grittato la sub a Boomer Grazie mille Grazie mille Pippo 198 Quattro mesi da Re-Sub Ciao a te E so quattro Grazie per farmi divertire ogni giorno Vedete che in buono Comunque Fai i cubetti di level up la prossima volta Buoni Grazie mille Grazie mille Grazie mille a LuxPower22 Buonasera a Matteo Come va la dieta? La dieta? La dieta va benissimo Va una plomba Sto dimagrito un po' ragazzi Dimagrito veramente tanto Sto dimagrito C'è piano 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 Ci sta un po' di grasso Ci sta ancora un po' di grasso Però piano piano Scendo ogni giorno sempre di più Qualche centimetro No, mese dopo mese Sempre qualche centimetro Grazie mille L'Oxiofex Grazie mille Nei nove mesi di Re-Sub Tra poco nasce il nostro bambino Ti amo Matteo Ciao bello L'Oxiofex Mua Grazie mille anche a Rubinetti Andate a raccogliere nudi Devo sapere che qualcuno Raccolga nudo A mo glielo chiedo Malax Ma se andassimo a raccogliere nudi? Si possiamo anche andarci Però Era buono sapere dove stava il processo Grazie mille Ah il processo? E mo ci penso io A mo dopo me Dopo devo chiamare Il capo Grazie mille anche a Easy Joe Grazie mille terza Grazie mille Andracos Mua Un bacio enorme Grazie Grazie mille anche a BTG Berga Grazie mille due mesi di Re-Sub E Buon BTG Berga Grazie mille anche a Sucs Simo 194 Quattro mesi di Re-Sub Grazie mille Grazie mille Grazie mille belli miei Beh buono 20% no ragazzi Andiamo a casa quindi Ci abbiamo fatto Ci abbiamo fatto E' un po' tanto dici? Allora 10 Sì Facciamo la prova con questo ragazzo Ok? Che ci ha detto che Insomma c'è la protezione Il 20% Il 20% della raccolta Tu metterlo da parte Ok? Sì sì Perfetto Poi in caso invece che il 20% Gli diamo il 10% Ok? Sì sì Io padrone le posso consigliare Di farceli sempre amici questi qua In modo tale che non abbiamo problemi con nessuno Vabbè si spera dai Noi l'importante è che raccogliamo la cosa Sì 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 E allora poi altra cosa importante Sì Adesso io devo andare a chiamare il signor N No il signor S Sì sì E devo vedere se riesco a vendere sta roba Cioè dobbiamo lavorarla soprattutto adesso E infatti dobbiamo sapere il processo che sta Ha detto che mi chiamava lui perché c'aveva un processo Un processo legale c'aveva Ah addirittura Allora io riavvio un attimo la testa Sì sì Poi quando rientro vediamo un attimo se mi funziona il cellulare Ok? D'accordo Arriva Grazie mille non mcx Ciao bello grazie mille del sub Un bacio enorme grazie Grazie mille bello mio Qua Vi state a divertire ragazzi un po' Greve Molti mi hanno detto che palle l'rp quello troll E beh dai più serio del cuci raga io non riesco Più serio del cuci io non riesco raga veramente Sì 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 Non importa ciò che dite Siamo una family Anche se ci colpite L'impero è sempre qui Siamo qui sul banco Stai vieni qua Ti divertirai Non scordarlo mai Unico server con novità Che ti gustarà Vieni giù in città Sì 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 Ehm Grazie mille manutramis È 8 mesi Ciao bello 8 mesi Grande bello mio Ma che copyright Fa me vedere se funziona il telefono Ok Allora Signor S Funziona funziona Un attimo c'ho problemi di città Un attimo città Ma c'è qualcuno in città dei nostri? Pochi purtroppo hanno problemi all'aeroporto Si sta una cosa lunghissima In quante ne siamo? Attualmente io o lei Adesso vedo gli autrucci Comunque Ora chiamo anche a Leonardo Vediamo se mi rispondo Almeno se cambio di stile Oì Allora Sei disponibile? Salve 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 mi dica Allora non so se tipo l'ha sentito il qualcuno Il suo capo per i 500 mila dollari No No non mi ha mandato messaggi Ancora no L'avevo sentito prima Eh vabbè Ehm No Vabbè Se no provo io un attimo a chiamarlo al volo Vedo quello che dice Vabbè Mazza Io sono chiuso il telefono in faccia Così Va A seco Vediamo se mi risponde Dandy Allora Allora Chi è questo? Allora siamo tutti all'aeroporto padrone Ce ne sono tre all'aeroporto Tre? Quindi ne siamo Con Leo Uno Due Quattro Cinque Siete C'è anche quattordici Otto Otto Beh otto dai Potremmo fare Ultime cose Otto Chi è questo? Chi è questo? Gigi Gigi 9 9 9 9 Eh beh buono 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 Salve Salve ragazzi Buonasera Salve Allora Dai dobbiamo Dobbiamo lavorare la roba Così almeno Iniziamo C'è la venda Almeno Però devo capire Eh devo capire Il processo C'è 10 Ce l'hai mille Importanti Ah ragazzi Vi devo dare una tag C'è Prima di qualsiasi Poi C'è una risponde Parco Morto calì Ma perché Dite ste cose Non è vero Ok dai Ammo un po' Di rp Qui c'è Un po' Cazzone Dai Basta cose serie Ragazzi Tanto è difficile Andare a raccogliere Ma se possono fare Lavori legali Tipo il meccanico Mentre Nel mentre uno Insomma C'ha tipo un'azienda Agricola Al cucino Non lo so Sì però Mi deve pagare La porca puttana Posso? E allora è fatta Andiamo a fare Il meccanico Grazie mille Gianni Cutro Grande Sei messi Grazie mille Gianni Cutro Grazie mille Grazie mille Anche a Chekil11 Grazie mille E Lorenzo Quello fake 17 mesi Grazie mille Bello mio Un bacio enorme C'è nessuno? Vuoto Salve Salve Lavora qui lei? Eh no Però non c'è nessuno Ah non c'è nessuno Eh se voi sapete che c'è qualcuno Fatemelo sapere perché sto cercando pure io Ah lei è entrato? Sì sì sono entrato ma non c'è nessuno Lavora qui lei? Lavora qui? No Eh ci sta nessuno Già nessuno eh Vabbè ma lei come si chiama? Eh vabbè Io ho quinto Quinto? Si chiama quinto? Sì tu come te chiami? Che nome romano? Che nome romano? È stupendo Eh lo so so Vuoi venire alla All'agency per cortesia? Eh non c'è nessuno Ma voi che lavoro fate tutti questi di uguali? Tutti i verdi e pisello? Eh Nei criminali Andiamo a raccogliere i piselli Come? Come i criminali? No no Il signore con la cosa gialla là dietro Ho limone Ho limone Ho banano Ho banano Eh vabbè ma tutti criminali? No 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 io faccio l'avvocato Ah sì Lei invece? Eh va bene Ma io non lavoro sono disoccupato sto cercando lavoro Come sta cercando lavoro? Sì sì È da solo in città? Eh no sto insieme ad altri amici però vabbè diciamo di sì C'è una casa tutta da sola Fanno disoccupati insieme Eh scusa ma può andare a parlare un po' più di là per favore No perché se lei e i suoi amici sono disoccupati un lavoro Vuoi venire a vedere a macchina mia che ho comprato ieri da 500? Eh va Vai venite venite che faccio vedere Come se lei è disoccupato un lavoro lo troviamo non c'è A me piacerebbe tanto fa il meccanico Eh Però devo soccarare lavoro Ho mai avvico un minaccio Non solo lavori diciamo Questa è la 500? Sì questa qua è la macchina mia Ma sicuro che è tua? Sì sì come no Fammi vedere Non ci credi? No Facciamo così Mi dai 100.000 euro se non è mia Cioè se è mia mi dai 100.000 Ci stai? Eeeh Stiamo senza nali No 100.000 100.000 li ho però 10.000 facciamo 10.000 No non ci fai Fai 10.000 No vai 10.000 E la macchina è tua Se non è tua Dei tu 10.000 a me Ok ci sto Però Eh mi raccomando abbiamo stretto la mano Ci sto ci sto Vai Fai una cosa e non è mia Vai 10.000 No 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 Ce l'ho ce l'ho Sta qua sta qua No Levate Allora fai una cosa Eeeh Un attimo che devo un attimo vedere Se te levi Dio Magari Magari Oh marianne che dici Più va bene La geleria Oh 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 Eh Vai 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 Oh che è Che è Che è Ma che è Porca Pisa Che è Andiamo a prendere un paio di gioielli Bello Eh come gioielli Ma da che Andiamo Vieni Un attimo fammi chiudere la macchina Almeno Chiudila Chiudila Ok non c'è Manto il telefono Ma che c'ho Ma te pare che c'è Il telefono Non giochio niente Mi manno Il telefono Eh Circolare Eh Vai là Ma sto posto Eeeh Ma dove Qua 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 Ma sto macchina Ma è brutta Eeeh Questa Non facciamo nulla Non facciamo nulla Non facciamo nulla Non facciamo nulla Eh Eh Non faccio niente Però devi aprire Ma questo Ma questo Non è Non ti preoccupare Vai Se abbiamo problemi Ne rispondiamo noi Oh Non va Eh Devi aprirla tu Ma devo entrare qua dentro Sì sì C'è solo un problema D'aprire la macchina Eh sì sì Ma è una rapina Dobbiamo farla Non Non le verrà tolto nulla Non le verrà fatto assolutamente Ma passi le mani Non ti preoccupare Ma io i pulizziotti li conosco E allora ci denunci No 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 Li conosco nel senso Eh che sono pezzi di merda No ma che amici Pezzi di merda I pulizziotti Oh 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 Ti fermi Eh vabbè Non giovengo Non giovengo Oh 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 Che t'è più Sì nungu Vai 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 respondo io vai Non ti proprio Eh Oh Vai vai Oh ti fermi Un attimo Siamo due armati Però basta che non mi ingappucciate Perché io sono fuori gastrofobia Allora Come si chiama? Io? Quinto Vabbè non fa niente Il cognome non mi interessa Il cognome ti interessa? No non mi interessa Allora Quinto Noi come ci vedi Siamo anche senza maschera Quindi tu potresti benissimamente Magari dopo la rapina Andarci a denunciare A fare quello che cazzo ti pare No no ma io non voglio Ma io non voglio denunciare a nessuno No no Pertanto Noi durante tutto il corso della rapina Non ti storceremo un capello Se non ci obbligherai a farlo Non ti storceremo un capello Se la polizia non ci obbligherà a farlo E quindi Stai tranquillo Non ti succederà assolutamente nulla Che schifo Sapete che fa chi fa più paura di voi? Se vuoi mi posso sparare No vanno un pochetto più avanti Un pochetto più avanti Un pochetto più avanti ancora Fa più paura questo qua sullo poster che vuoi Tu dici? Ma che su chi è? Entra dentro Entra dentro veloce Vado 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 Allora ti metti qua al centro Qua? Qua al centro Devo rapì? Devo rapinare? No Porca puttana Che? Eh sta il Sta il Cosa qua dice che Devo premere No 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 Ma non ha mai fatto una rapina lei Sembra così tanto Io Ma ti sembra uno che fa le rapine? Secondo me no Ho detto che cercava lavoro Sì ma non faccio rapine Eh un attimo che c'ho Non ce l'ho Non ce l'ho Ah ok ok Solo che mi chiamano Non so come fanno Eh ma prova tu Non va non va Eh no 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 Prova tu a scrivere Vedi che ti dicono Cioè è un bell'unicorno comunque Ti piace? Sì 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 Bello bello Ma questi capelli color banana Ma perché tutto a me? Perché? Ma se è trovato nel posto ho sbagliato Al momento ho sbagliato Ma comunque mi ha preso Ma stavo in agenzia Mi doveva da 500.000 euro Mi doveva da qui Ah Lei che è disoccupato Come cazzo fa ad avere 500.000 euro? E bitcoin Maschera 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 Sì è Mi dobbiamo mettere maschera? No Ma lei è proprio un minatore No 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 Io giù la maschera perché è a carnevale Ne so comprata una Poco fa era carnevale Ah sì? Eh sì sì La sferata del carnevale Vuoi vedere la mia maschera? Vai Prego Ande brutta So curioso Aspetta che c'è un attimo problemi Sai come mi chiamavano le persone? Per strada? Come? Aspetta Ma Ma i capelli le vanno fuori la maschera? Eh lo so perché Ma forse si vede perché la chiamavano Dio Togliete il giubbotto Togliete il giubbotto C'ha ragione Ma devo rabbinare io? Eh no il fatto è che ci sono casino di problemi C'è proprio io rabbinare? No I soldi li riceve lei A proposito Sì Fammi vedere se tengo 10.000 Che io sono una persona Oh troppo gentile guarda Eh no vabbè scusami Siamo stretti la mano Troppo gentile grazie Grazie mille Grazie mille filcamp per 7 mesi Grazie Loro 04 Grazie mille 3 mesi Grazie mille per me Mua 598 Questi sono quelli che tengono addosso Purtroppo non posso prenderne altri Ah beh buoni buoni E buttili via 1.000 dollari C'è un mese che fa lì Ehi Sono due bolli su Vabbè Come due bolli Ma tu lo sai quando mi pagano? Ah tu hai detto che sei disoccupato Si può sapere No allora Mi sono occupato Ce l'ho un'occupazione Io faccio call center Ah Di cosa si occupa il call center In questa città? Beh no Non in questa città Cioè nel senso Call center Mi chiamano Io rispondo E risolvo i problemi di solito Ecco Uno mi chiamano E mi dice Oh senti Quinto Non è che mi potresti risolvere questo problema C'ho C'ho la mia ex Che praticamente Mi sta rompendo i coglioni Tutti i giorni Io vado là E gli risolvo il problema Ma Ah Io ho un problema Aspetta 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 Il signor Quinto Io ho un problema Con chi? C'ho una ragazza E capa E No niente L'ho conosciuta Ci siamo sentiti per un mese Purtroppo Non ci siamo potuti vedere Certo Se ce l'hai Non penso che non la conosci Sennò Come fai? No Ci siamo sentiti per un mese E poi dopo Ha detto Non sono pronta Dopo un mese Eh E dice che pensa ancora Al suo ex Eh Come Che cosa mi consiglia Le vado appresso Cerco di riconquistarla La mando a fa Cioè Sfonna la più forte di prima Tu una donna Una donna Quando si lascia con un ragazzo Ci sta sempre un motivo dietro Devi capire il motivo Perché si è lasciata col suo ex Eh perché la relazione era tossica Era Era tossica la relazione? La sua sì Perché? Che vuol dire che era tossica? Era la scopa amica Come? Lei Eh Era la scopa amica Di chi? Di lui Eh però lei Diciamo era innamorata Capi? Lui era quello che la usava Eh diciamo così Una scopa amica Fatta male Esatto Quindi non so io In questa In questa situazione Come Devo comportare E tu allora Devi essere più Devi Insomma Io ho cercato di Diventare la persona Che lei cercava Nel senso Magari ho messo un po' Da parte Quello è un problema Quello è un problema È un tuo errore Perché tu più Tu più diventi La persona che lei cerca Che lei vuole E più È un problema Tu devi fare L'esatto Il posto Se lei vuole Che la tratti bene Ma no Esatto Ho capito No 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 Lei non vuole Che la tratti Allora Lei mi faceva capire Che non è che voleva Che dovevo trattarla bene Ste cose qua Tu finora Tu finora L'hai trattata bene Giusto No Anzi Quando l'ho trattata bene Lei spesso Mi mandava a fanculo E non voleva parlare Quando poi ho capito Che come voleva Che io la trattassi Era Tra virgolette Male Trattala male Sai come si tratta male Una donna Lo sai come si tratta Assolutamente sì Assolutamente sì No Trattarla male No Tu la porti a cena fuori La porti a cena fuori E poi Vai senza portafoglio E poi Così la paga lei Esatto Paga un po' tu E sì ma fa la figura Dello spilorce E no Perché gli dici Che non c'hai soldi Non c'hai soldi Non c'hai il portafoglio Dietro Gli dici E mi sono dimenticato E vabbè Paga lei una volta Poi dopo La seconda volta Ci ritorni E paga di nuovo lei Gli compri Vai a comprare Gli dici Guarda amore Io ti faccio un bel regalino Vai al negozio Gli fai un bel mazzo De rose Poi non c'hai soldi Per pagare Gli ci senti Non è che Ti puoi pagare Solo un regalo Dici Facciamo un viaggio Andiamo a Parigi Mi presento là E dico Però non te ne ho il portafoglio Ho pagato i biglietti Tipo Bravo Hai capito Però poi te li ridò Poi te li ridò Devo dirlo Esatto E poi non gli ridò Dai Poi vedrai Se te corre dietro Ma voglio Se te corre dietro Non perché te ama Per mazzate de botte Eh perché vuole i soldi Esatto Viene lei fidanzato L'ex e mi picchiano A voglia Ma io speravo che lei mi desse consigli Profondi Effettivi Su cosa posso fare Ma questa è una rapina È un colloquio Purtroppo Sì mamma mia Ti ha fatto mettere paura Signore Quinto Purtroppo Ma è un po' impallata Quindi mi sa La dobbiamo rilasciare Molto Infelicemente No no Se vuoi Se vuoi un aiuto Se vuoi un aiuto Sto 30.000 euro Al minuto Ma lei Cosa Lavoro no 10 minuti Sono 300k Comunque Se lei cerca lavoro Ve lo dite Nel senso Mo' seriamente ci vede mascherati Quindi se lei cerca lavoro Mi dica cerco lavoro Altrimenti Cerco lavoro Che lavoro offri Allora andiamo via da qua Non ti preoccupare Ti posso offrire Nel caso hai qualcosa Da vendere Mi capisci Io ti posso Offrire un bel po' di soldi Quanto fai Quanto fai L'amnesia Processata L'amnesia L'amnesia è un po' Off limits Per venderla Così Diciamo che Se sei già l'amnesia Non fa niente Non siamo le persone per te Però Il marioana La marioana Processata Se Inter Vabbè Se è riuscita a portare Non insomma quanti ne siete Però 2,50 al pezzo No Già la vendo a 3,50 Io lascio Non si può vendere A 3,50 Non te la vende nessuno Ma come no Me la compra Non te la vende nessuno Sì me la compra Fida a te Vabbè allora E dammi il tuo contatto Eh? E dammi il tuo contatto Io sono proprio curioso E tu vai in giro Chiedi Il cartello Il cartello Il cartello Il cartello Lo so il prezzo Non ti preoccupare Se ti dico 2,50 Perché il cartello Non supera tot Quindi purtroppo Se ci stasera Se già i 4,50 Sono più che lieto Di lasciarti andare così Con la offerta che tenevi prima Altrimenti 2,50 No 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 2,60 Ultima offerta Ultimissima proprio Che lo so che tu la rivendi a 300 È normale E che devo andare Dove andare? Dove fare Dove andare a 300 2,90 E che cazzo ci guadagno? Sì Sì Aspetta 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 Scusami Scusami 2,90 Che cazzo ci guadagni 2,60 2,60 Su mille di processato 260.000 Cioè Puliti Non te li do sporchi Sto pezzo di cazzo ci guadagni Prendimi per il culo Un'altra volta E ti sparo Quanto è vero Che stiamo qua dentro Scusami Un attimo Che mi scappa Un attimo Un attimo Solo Un attimo Ma ti giuro Mi sta ispirando Un sacco La pallotta Ti giuro Un attimo Un attimo Lo so Capito Un attimo Solo Che c'ho Un attimo Un bando Incontinenza Mamma mia Che pesciata Scusami Scusami Ciao 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 Sto cucchione Del merda Apprezzare Mamma Vai vai Sei libero Sei libero Vado 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 Ciao Belli Orca Troia Che botta Non lo so Che parole Non ho detto Non ho detto Non ho sentito Grazie mille Colome 050 4 mesi Re sub Ciao bello Un bacio enorme Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Anche a lol 22 12 3 mesi Re sub Grazie mille Filcamp Grazie mille 7 mesi E l'or 04 3 mesi Re sub E' E' Buon Un'or Ciao bello Grazie mille Di c'è Pio 06 Ciao bellissimo Porta qua Porta qua Donne Grazie mille Grazie mille Anche a Michael 10 Grazie mille 7 mesi E Yugi More 22 Grazie mille Di 6 mesi Re sub Laura e Francesca Fadeli a te La vicina A Pecorina Grazie mille Per il mio Pronto? 10 Salve Io sto al 5 e 20 Passi a prendere per favore Serve un passaggio Aspetta aspetta No 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 Ci penso io Ci penso io Ciao bella Ti serve un passaggio Salve lei Chi è? Io sono Jimmy Tu chi sei? Sono 50 50 mila schiaffi Niente male come scelta Vuoi andare a darmeli da qualche parte? No dai Sei molto carina comunque Guarda c'è un problema Quale? C'ho il pisello Uh bellissimo Vieni Ti piace? Certo Vengo vengo Dove andiamo tesoro? Un attimo che me devo rivestire Ti piacciono le poesie? Le poesie? Un attimo solo eh Le poesie No un attimo solo Un attimo solo Che Dimmi tesoro Ok Come stai bene con quei pantaloni Grazie Ti piacciono? Certo Dove andiamo? Andiamo Ma tu che lavoro fai? Lavori? No non faccio un cazzo Non ci voglio di fare un cazzo Non faccio un cazzo E non farò un cazzo Ma no eh Mi piace la tua Idea La tua filosofia di vita E' un po' così che ragiono Vado in giro Andiamo al vanilla dai Magari c'è un po' di figa Ah Vuoi una serata che brilla? Vai dritto al vanilla Sei simpatico Come hai detto che ti chiami? Io quinto mi chiamo Quinto Tu Gigi? Jimmy 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 E tu che fai di bello? Lavori Se ti dicessi quello che faccio Molto probabilmente scapperesti via Dalla paura Perché? Prova dai dimmi Spaccio la cocaina Fico Me ne dai una striscia? Eh se vuoi Andiamo a 7.15 che te la do A 7.15? Va bene Ma quindi niente vanilla abbiamo detto Eh decidi tu Se vuoi vanilla O vuoi la striscia Se vuoi la striscia Andiamo a 7.15 Però te l'ho avviso È roba forte Ma costa tanto? No 500 500 dollari Una striscietta? 500 dollari E ti faccio volare Vedrai le stelle Addirittura Vabbè Per ora facciamo un mucero panilla Vediamo che succede Che dici? Ma se facciamo tutti e due Prima andiamo a 7.15 E poi Al vanilla Ci sta Non è male l'idea Vieni vieni Ti faccio assaggiare la roba mia Ok C'è un po' Un maialotto Tu eh Eh cura tu Io Sì tantissimo Aspetta che metto il puntino Eh io sto a mangiare un attimo Tranquillo Sento che Sento che muovi tutta la bocca Ti piace eh Tantissimo amore Sì ma me sa che la corra Non ho mai capito che Io sono maschio Eh allora che problema c'è? Scusa hai pregiudizi con chi Gli piace le persone? No A me piacciono tutti Maschi Famine Roboti E allora possiamo andare d'accordo? Altro che Non ho mai capito quelli A cui non piacciono gli altri A me piacciono tutti Tutti Ma sei fidanzato? Sì Ho una decina di fidanzate Sette otto ragazzi Eh? E tu sei Quello Ah ho capito Ma te sei Pro al poliamore Questa nuova Moda Del poliamore Delle coppie aperte Sì Però poli mi sta un po' sul canto Quindi no Il poliamore Ah sì Il poliamore No Ho capito l'altro E tu quinto Cosa vorresti fare Quindi Con quei soldi Che fai Con la proteina Io? Ma niente Io sopravvivo Vivo Allora Sei come me Cioè com'è Voglio sopravvivere La mia idea È molto in grande Io penso Io voglio conquistare Tutta la città Partendo da questa signorina Immagino Questa? Chi è questa? Salve signorina Ciao Lei è proprio carina Signorina Mi sa che non pensate No 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 Guarda come si muove Guarda che belle forme Can you just leave me alone? Of course He can leave you alone But remember If you want to leave free Just do it Bye 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 Fuck you Esatto Pure vaffan Mocca a mamma De pute Eh però Non capisce Meglio Meglio Se gli parli inglesi Esatto Comunque A te ti piacciono Quindi ti piace tutto Ti piace a te Tutto E dove vai Do vai Te sei sbagliato Torno indietro Che puttana Eh te sei sbagliato Traversa Hai ragione Eh pure Pensate a sinistra Altre tipi De traverse Attento che qua Vesi qua Non si sa che cazzo Fanno Questi sono tutti pazzi Non pensanti Mamma mia Quindi vuoi far festa Stasera Tutte le sere Vieni Vieni Salve Lei è Ok Vieni Vieni Signor Ecco Vieni Vieni Oh Non gli ruba la moto A lui Perché Non mi permettere mai Vieni 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 Grazie Signore Salve Venga Venga Ce l'hai i soldi dietro? Eh no Dovrei andare a ritirare Eh 500 Guarda Ti aspetto qua se vuoi Tu andando a valere a ritirare Ti aspetto qua Ok Arrivo subito Sì sì 7 e 15 7 e 15 In due minuti sono qui 10 dimmi Padroni ascolti Noi stiamo andando un attimino a prendere un po' di cibo Dopodiché veniamo a casa Va bene? Perfetto Va bene Eh dopo andiamo a fare un po' di roba Ok Oh 10 Sì mi dica mi dica Andateci senza armi però per favore Sennò dopo le perdiamo Sì certo certo Ok Arrivederci Ciao bello Arrivederci Arrivederci Ma che gratis 500 glielo faccio pagare un pezzo E' un wolf il lupo Che sta simpatico Che sta simpatico Wolf Grande Jimmy Gli piace tutto Questo è da YouTube Wolf è da YouTube Scusate un attimo raga Ma devo mangiare Perché ho fame Wolf è un grande Ma te come te Gioca anche ADN di su Twitch Dovresti provare a fare una partita con lui XD Dungeons & Dragons Eh ma lui è troppo forte Eh lui è un master Un attimo sto mangiando Saluto tutti Grazie mille 100 bits Sto appena Andeprime Superstuja 4 Grazie mille Rubinetto Ciao bello Ck luigi Due mesi di resabio Ciao bello Un bacio enorme Grazie mille I am oklad 100 bit Come fa con la casa nuova Eh Buona merda Però come fa Una via Sto intrapendendo una via La retta via La lambo Ma è vero Ciao la lambo là Ma ci vado Grazie mille a It's Sammo 18 19 mesi E Colome 0,50 4 pesi di resabio Se è migliore Giochere mai a FIFA Non penso Bello mio Grazie mille Xanio E Ciolla Stellare Grazie mille Porcellino Eh porcellino Ma che io Eh non ti muovevi Sto facendo il porcellino Nella tua mente Vieni vieni Beh Benvenuto a casa mia Sì sì Prego prego Permesso Prego prego Qua è tutto libero Vieni 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 prego Ma qui si può fare i festini con i matti Quinto Qua è quasi E mo ho chiamato la redatrice E sta un attimo sistemando Comunque sono 500 Guarda Tieni ti ripasso subito Sì sì Ecco fatto Ok perfetto Perfetto Mo io ti do sta roba no? Sì Ma questa è roba potente eh Non è roba così Dai firmiamocela insieme vai Perfetto Pronto? Ok come faccio a fumarmela però? Basta che fai usa Ah ok Credo No non mi fa Tanto lo fa Questo mi sembra un po' una situazione da Peggy 18 Fai gli auguri a dirmi Ecco ecco Slash E Smoke Il muscolo intendi giusto? Sì il muscolo Sì Ah ok Senti che potenza Questa è buona eh Mamma mia Non si è abituato eh Eh no 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 Io preferisco whisky Bro è una bella botta Eh Madonna Io bello mio ne uso Ne faccio uso diciamo Buona questa Non tanta però Ne produco quindi Un po' la devo assaggiare Capito? Cazzo è buona Questa ci puoi fare un sacco di soldi Quinto Questa la vendi benissimo Fai gli dire a sport Mamma mia Degiamo che gestisco Una bella gang Un bel gruppetto Sì sì Sigo Mamma mia Oh Senti qua che bella Sulla destra D'arriva Dritto dritto Sulla destra D'arriva Esatto Fa anche un po' caldo Non credi? Sì sì Proprio Ti piace eh? Ok Tantissimi piace Buona Grazie Quinta Ok Prego prego Grazie a te Vieni vieni Andiamo al vanilla Divertici un po' Vieni Sì ci sto Sono tutto Sono tutto fatto adesso Un po' d'alcol Ci sta l'alcol L'al vanilla Sì Speriamo di sì Quinto Sì Dai speriamo Veramente Ah bello Bello Come Pronto Eccoci qui Salve 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 Chi è? Salve Piacere Sono io Sono io Ah S Sono S Sì sì Ciao S Allora no Io ti volevo dire una cosa Molto importante Dimmi Io volevo Insomma Sapere Quanta percentuale Volevi per darmi protezione Al I gambi Tu hai detto che mi davi protezione Vero? Carissimo Io ti voglio di una cosa No? Sì Una cosa importante Sì Io ti ho dato Tre pistole Una te l'ho regalata E uno ti ho detto che me la devi pagare Ok? Sì Quelle non è problema Ma te le pago Eh Le tre pistole Sono finite No? Le hai perse Giusto? No ce l'ho Cazzo di Ah ce l'hai Ce l'hai Ce l'hai Allora dico io Io ti posso mandare qualcuno Per farti raccogliere Ok? Noi ci abbiamo tutto E noi ne siamo in nove adesso Ma noi stiamo andando là Eh ma Eh ma Il problema è che se andate voi Non posso venire io Il numero sempre quello Deve essere capito Sì sì Eh c'è un'altra cosa Che volevo parlarti Allora io per venderla Porta a te Ma Porta la La protezione a me Non è che mi serve Capito? Cioè non mi serve Protezione Perché tanto Noi adesso siamo armati Ci abbiamo le pistole Abbiamo tutto Non mi serve Tranquillo Quindi quel 30% Che tu mi dicevi Di roba A me non mi serve Cioè a me basta Che io ti vendo Ti porto la roba Te la vendo Sì Quante che ti avevo detto Il prezzo Sì sì me l'avevi detto Me l'avevi detto 600 Eh quanto avevo detto il prezzo Non mi ricordo Eh 600 al pezzo Per l'amnesia Come 600 al pezzo? Eh scusami 500 Scusami Ok 480 Ok grazie 480 Ok 480 mila dollari Ogni chilo che vi porti Va bene? Perfetto Noi tanto Stiamo andando a lavorarla Quindi se tu mi dici Eh però mi devi dire Io te lo posso portare Dentro stasera Ma tu mi devi dire Dove Cavolo Si raffina Me lo devi dire Eh andiamo Ti ci porto Ti ci porto Eh guarda però Io adesso sto andando Al vanilla Non posso Eh ho capito Ti ci porto Un attimo E ti riporto Al vanilla Allora guarda Vieni al 715 C'è Capelli rossi Si chiama 10 E dai Porti lui Che tanto fa le veci mie Ok Sicuro? Sì Sì sono sicuro Allora Ti chiamo a te Poi tu chiami a lui Quando sono pronto Dai dammi 5 minuti Sì Ti chiamo a 3 5 minuti Perfetto Ciao ciao Arrivo Affari di famiglia Arrivo subito Eh Voi tranquillo Eh Vecchio lupo Vecchio lupo Eh sono un vecchio lupo di mare Eh sì Vecchio lupo Sono solo un vecchio poeta Io ti aspetto qui O dimmi Ma senti Mi sembra una cosa Ma c'hai pure un lupo qua dentro Vuoi vederlo? No no grazie Se no mi muore Sei sicuro No non lo voglio Se no mi muore 10 Possiamo giocare a spade Un momento solo Devo parlare di affari Prego prego 10 Allora noi Noi andiamo Allora no 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 Allora tutti tranne te 10 Perché adesso arriva Un tipo Sì Qui Ovvero S E ti porta a far vedere Dove si raffina L'amnesia Perfetto Perfetto Ok Perché io devo andare Con Wolf Con il vecchio lupo Laro Vedi quello là Un ben Problem Con Jimmy Devo andare con Jimmy Ha Ha detto che siamo tutti Bellissimi Non so E lui C'è una teoria Del poliamore Gli piace tutto Maschi Peppi Gli piace tutto E vabbè Tra poco arriva qua Ok Intanto manda ai ragazzi A raccogliere Io tra poco Ti dico Quando vengono Ok D'accordo Mi deve fare un favore Deve dare le chiavi di casa Ad Alex Dentro stasera Ma ha detto Che dentro stasera Dobbiamo fare un chilo Riusciamo Eh Se non ci rompono L'uomo Ci riusciamo Un chilo Raffinato Sì Ok Le chiavi ad Alex Serve Chi è Alex Venga con me Alex No non c'è Questa Ah vabbè Vabbè Dopo gliele do E devo andare Però Ok Ma tra poco Descrivo Quando viene Va bene Anzi Voglio Gli mando Un sms Dico Resto qua Quindi Giusto Sì Sì Qua siamo molto più Organizzati Rispetto Che a Roma Molto più Organizzati Grazie Sì 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 di fretta ci risiediamo perfetto allora io 10 vado ok aspetta un secondo che sta arrivando pure devo andare tra poco arriva signor S si ragazzi mandali i ragazzi mandali i gambi tra poco arriva signor S ti fa vedere il punto del processo si si porta lì alla raccolta appena hanno fatto mille tornano qua e poi andiamo al processo ok perfetto va bene va bene eccomi signor Jimmy scusami non serve il signore quinto vieni vieni tanto siamo amici no mi sento tutto fumato quinto questa nera o questa blu mi piacciono le arle è pure il colore si si e poi adesso un secondo preciso dare gli accessi a casa dare le chiavi al nostro mi dà un secondo signor vai tranquillo vai tranquillo allora vieni Alex eh Alex bono Alex salve perfetto grazie mille arrivederci arrivederci grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille ciao ciao siamo pronti quinto ma tu sei più da relazioni oppure ti piacciono di più tipo che ne so va vaffanculo questo guardalo oppure anche una notte d'amore tutto tutto quinto anche una notte d'amore una notte d'amore un secondo d'amore un millesimo d'amore l'importante è che ci sia l'amore tutto il resto è merda ok guarda io non ho mai provato cose con un maschio con un ragazzo però possiamo provare curiosità curiosità personale ma scusa non ti sei mai infilato un dito nel culo no che schifo a te piace no io una volta l'unica volta ho ficato un dito in culo e una ragazza ha fatto l'effetto mi cado si ho capito ti è uscito il cioccolato spero che tu non l'abbia mangiato ma guarda che se fai tutto se fai tutto bello pulito dopo sembra che non è male prova fidati tutto pulito? ma come fai a pulire dentro lo curo? cioè dentro lo stomaco come fai a pulire? non ci passi pulito tu fidati di me una volta che stai sotto la doccia tutto bello rilassato vai lì con l'acqua poi flacca dici che godi di più? cambia tutto cambia tutto fidati di tu eh io ho paura del cioccolato però vabbè Mario che va la prima volta è tuo non te lo arrivi forza maniago aspetta mi fai un attimo tu lo conosci fifa? certo il gioco? assolutamente fammi un i ehi sport certo te lo faccio subito con la voce fa più o meno così i ehi sport izzuna game izzuna game com'è izzuna game? che signora? izzuna tu conosci frank izzuna? no frank izzuna è il creatore di izzuna game praticamente nel 1991 quando per la prima volta fu corsa i 300 metri di frank izzuna sostanzialmente c'erano dei tizi vestiti di bianco che correvano come dei deficienti ahahahahah ahahah oddio poi fai morire jimmy anche tu matteino che poi te insomma sei un merito che tipo sei tante faule io sono un poeta uno scrittore ah uno scrittore? che libri hai fatto? beh ho scritto un libricino lo trovi su amazon se lo vuoi se vuoi ti dico il titolo si si di me come si chiama su amazon? su amazon lo trovi c'è scritto le 100 poesie del lupo se vuoi te ne mando una copia a casa lì no raccontami una poesia una sola vuoi una sola poesia? si vai va bene ma la vuoi lunga o corta? corta cioè lo preferisci bello lungo o corticino? eh un racconto corticino mi piace di più va bene sei pronto? si questa poesia devi un po' ragionarci sopra vai vai si intitola la strategia del folle non puoi ipotizzare le mosse di un folle calcolatore sarebbe come non capire il perché continui a perdere giocando a dadi contro un dio ti è piaciuta Quinto? no perché non l'ho capita eh lo so all'inizio non si capiscono mai devi leggere rileggere continuare a leggere la parapresi in realtà è molto semplice se tenti la sorte in un momento in cui non puoi farlo senza avere piani costruiti dietro va tutto a puttane questa è la parapresi devi tentare la sorte quando sai che carte ci sono in tavola capisci? bello bello bella non è male è bella porca puttana non riesco a chiudere la moto eh va bene tanto che te ne saranno in gula dai ma si hai ragione vieni vieni ne fottiamo un'altra mi sento ancora tutto fatto per la canna eh pure io pure io sono tutto bello fatto infatti io un po' abituato ci sto ci sono un po' abituato ma tu no chi amo questo? e questi che vuol? boh pure loro vogliono andare al vanilla qua ci stanno pieno di tonnine qua dentro corri 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 si si per una notte che brilla vieni dritto al vanilla non ci sta nessuno ah no? non ci sta nessuno porca miseria e dove stanno allora? dove stanno? dove sta la festa? la festa un po' di... no la festa un po' di Movida dove sta? a me contro la lutelefono un attimo ti piace la Movida Jimmy? certo che mi piace la Movida io vivo di Movida il Bellevue vi piace a voi? il Bellevue? se ci vado io ci vai anche tu andiamo tutti al Bellevue tu bello tu bello andiamo al Bellevue allora andiamo guardate un passaggio posso venire con voi? eh stiamo in moto ho posto a comprare la moto così siamo solo in due e non c'è nessun termine ragiongo lì ragiongo lì ok a meno che non vuoi guarda che a meno che non vuoi fare una cosa se puoi fare una cosa tre beh io sono sempre disponibile sempre ti piace? si si bravo ragazzo sai giocare spada contro spada? ehm cos'è spada contro spada? io penso male cappella contro cappella ci sto ci sto vai bravo sei pronto? quinto? bravo piano 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 si si ti piace Wolf eh vecchio vecchio lupo ti piace vecchio lupo non mi tocca la faccia non mi tocca la faccia si si la faccia no non mi tocca dai facciamo bufà pesce a pesce pesce a pesce pesce a pesce aspetta 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 che più il pesce dalla tasca cosa hai fatto? vai vai pesce a pesce prendi il pescione prendi si bravo maiale che cazzo sta succede? guarda lì che bei pescione ecco ecco tol il pesce oh si 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 maiale si vieni da dietro vieni il ballo mio vieni ma che voce grosso c'hai bello e non ha ancora visto il cazzo va bene dai andiamo al bello e più dove tutti quanti lo prendono in go andiamo 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 perché questa serata che brilla non c'è nessuno al vanito ma c'avate dei sordi vieni in po' qua vieni in po' qua jimmy accettami ma sai che è chiuso vieni vieni ma non credo a vero 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 grazie mille grazie mille cinque mesi di resav è buono grazie mille o ce l'hanno inculato ah no sta lì quale è quale wolf eh scusami scusami mi chiamo jimmy wolf di cognome ah jimmy wolf allora wolf vuoi andare a prendere la mia lambo vogliamo andare a collerli la moto la posso prendere io no no non la do a nessuno la mia moto vuoi andare in alley è come cavalchi bene vuoi andare in alley o in lambo perché direi in lambo facciamo una gran figura andiamo in lambo eh si che dici perché in alley è figo ma la lambo è la lambo ok andiamo là allora dove ti ho messo il punto sul gps perfetto basta che vai qui a destra a sinistra scusa ok dritto a terza traversa a destra e qua sempre dritto e tre stella la mia lambo l'ho comprata giusto che poco ah perfetto ma che colore qui a destra qua 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 rossa rossa come l'amore come il cuore rossa come il sangue come il sangue esatto quello che esce quando le donne hanno il loro periodo eh giusto è giusto l'hai mai provato il gusto non è male sta qua a destra eccala ti piace? arca buttane bellissima vieni vieni parcheggia parcheggia vieni vieni non mi fai entrare qui vieni vecchio lupo vieni vieni andiamo qui intorno a maialotto sì ciao puttanelle allora metti un po' il punto per il belle view mi diverto io ti diverti anche tu andiamo tutti al belle view eh vieni tu lo conosci Orazio? certo ho già lavorato una sera al belle view ah sì? sì è solo che mi son rotto il calzo non mi piace stare alle dipendenze di qualcuno sono più uno spirito libero ma sì? sì libero come l'amore eh ma se non lavori cioè a te non ti piace fare niente no? ma se non lavori come fai a campare cioè a portare a casa il pane vende le mie poesie ah tu vende le poesie ma vende poesie non è che ci si guadagna tanto cioè no per niente però sto bene nella mente a meno che su Amazon non c'hai tanti acquirenti esatto in quel caso lì su Amazon riesci a sopravviverci esatto dai uno di questi giorni ti invio una bella copia con una dedica solo per te al 715 va bene? vai non vedo l'ora così te la leggi di notte quando sei lì tutto solo sì sì un attimo dieci dimmi guarda mi ha detto che sta per arrivare guarda tu intanto vai poi quando arriva io ti chiamo e insomma e tu vai a torno in casa ok? va bene va bene perfetto ciao ok eccomi oh sì vai guarda un po' quanto veloce la mia Lambo la mia Lambo va più veloce di tutti a 260 cazzo è una bestia porca droga che cazzo è successo vai quella qua davanti a tutti quella senza reggiseno porca puttana con che cazzo è successo gli stanno scoppiando qualcosa con sterno la signorina eh non lo so c'è due zibraccole eh visto? quando sono belle visto porca puttana belle grosse eh sì sono enorme ci stanno un po' di problemi sono enormi ok andiamo 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 bella vieni vecchio lupo andiamo quinto c'è orazio qua c'è orazio che ho grosso calcio io sono quinto piacere ah io però ho il numero 2 il numero mio ce l'hai? come fai velo? è un'altra di Zuna l'amico mmm Zuna ha dato il mio numero Zuna? quello di eSported Zuna Game mmm io di Zuna non è che mi fido non ti fidi? e come mi chiamo? ti ha dato pure il mio nome? no 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 il nome no il nome no allora può da male educati avere il numero senza il nome eh perché mi ha detto pigia il suo numero e chiama e gli e gli serve una mano e io lo chiamo vabbè buona tela buona tela ma ci avete voi i sordi? io? io so pieno di soldi eh non c'è un sordo me lo puoi aiutare tu per favore? Orazio! salve Orazio non c'è io sono Orazio sembravo Orazio no ma voi lavorate qua? mi stangazza eh non il locale in questo momento in realtà non è che sia proprio aperto ragazzi ma va fare una festa c'è momento chiamata importante di lavoro non do si si dite che sto andando ora sono un chilometro dal 75 perfetto arrivo 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 ok 10 sta arrivando il signore S715 va bene va bene ciao 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 bello ma dammi dammi eh eh bello mio vedi una volta c'è la guala anche la gomma guarda la gomma non c'è niente non c'è nemmeno razio mo provo a chiamarlo aspetta non discorbo porca signorina non c'è un cazzo di fiesta qui non c'è un cazzo con tu qua ho un bar ho un bar eh andiamo 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 qui la così ci si sveglia la pila la pp a esattivizzato esattivizza orazio qual è il più bello locale della città dimitri pronto orazio buonasera madonna stai io sono venuto qua insieme a un barbone insieme a uno che si chiama jimmy dove sei non ti vedo nello yacht in mare lo yacht in mare c'è pure lo yacht ma vaffanculo dai si lo yacht dove stai che non ti vedo sto suonando sto suonando eh va dietro vengo pure io ma sta a suonare lo yacht eh se vuoi non mi faccio a fare cosa boh ti voglio far presentare a sto ragazzo ho detto che ho lavorato già per te lo yacht in mare eh jimmy eh sono quello nello yacht di fronte al bellavio ma e come ci arrivo fino a là eh vengo io eh io sto qua ma c'è del personale eh però che c'è del personale del bellavio niente tutto vuoto stanno andando via pure i clienti eh perché c'è avuto un catering no te lo dico io perché c'è sta c'è sta il tequila che fa la festa là fa festa il tequila salite salite open bar open bar open bar arrivo vieni vieni ma posso venire pure io mi sporco le scarpe vabbè dai non fai niente io andiamo a farci un giro come grazie devi chiedere Orazio mamma mia nuota nuota grito sugino bella Orazio si dove stai anche Anna eccoci ma dove va Jimmy mamma mia sei stretto come stai quinto tutto bene signor Orazio lei umile eh eh madonna tutte le luci si dobbiamo Frank guarda eh sì sì abbiamo mi sento un po' così adesso mamma mia qua mi giro un po' la testa sull'are anche Anna Jimmy niente non ce la fa la vado a prendere io che vuole flexare questo che vuole flexare Jimmy anche Anna Jimmy grazie Checco mi ha salvato Checco urlate urlate ok ok mi mancavate ho beccato quinto e dovete ballare se volete stare in equilibrio assolutamente dobbiamo ballare? sì ma è un po' di festa è altro che bombola del cazzo bella Franky bella che cazzo che si dice ragazzi? tutto bene Orazio uorso io ve lo faccio Jimmy Jimmy come siete belli oggi Orazio come vanno io a fare Orazio? troppo bene troppo bene ti vedo Orazio ho preso questo oggi quanto costava Frank? 60 milioni di dollari 60 milioni di dollari oee porca puttana umili signor Jimmy ma teppino di soldi ebbene però sai il cibo dell'altra volta i miei dipendenti ormai ci siamo ingranditi è finito tutto eh vogliamo fare un altro ordine? eh se mi fai un po' di sconto quanto c'hai adesso disponibile? di budget un budget eh tu dimmi quanto mi fai il prezzo quanti pezzi vuoi? 100 e 100 quanto viene 100 e 100? eh me lo devi di tu non lo so 100 e 100 sono 200 30 60 mila verrebbe onesto 60 mila 100 e 100 55? 55? facciamo 30 mila e me dai 100 e 100 no no e ci rimetto così 100 e 100 per me un attimo pensiamo prendi la calcolatrice chiamo commercialista chiamo come fai a sapere che sto a prendere la calcolatrice? per me lui ti legge nella mente questo è come se ti conoscessi portico razio è uno che c'è un grosso cazio ma quello è Frank Frank ah Frank quello grosso? che costa così tanto? costa 300 un piatto di cibo? si ma in questa città costa proprio così io pure sei tu che sei caro sei sincero ma cosa è così costa? e io lo rivendo a 500 capito? se parla a fast food a fast food quanto costa? non lo so mille 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 un pezzo mille un pezzo di pane porca puttana porca troia dove lo fast food? eh sì fast food per caccio Frank basta questo modismo selettivo sì no 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 modismo proprio adesso sì Frank che succede? niente niente sono allora scosso ma mille un pezzo di pane signor Jimmy scosso scosso ma come mai sei scosso? nei fast food però nei fast food invece da sul negozio sulle belle view belle view è il più basso 300 te lo faccio è il più basso di tutto a pezzo ok ci sta va bene va bene va bene devo solo trovare i soldi devo parlare con bel forte perché dovevo tipo trasferire bitcoin in soldi veri perché mi sono rimasto un po' di bitcoin eh? imbruglione ma che imbruglione no mi deve da mezzo milione è tutta tecnica è tutta tecnica un bruglione che non sei altro guapa il bitcoin roba di mining eh sì non ormai ora non ormai c'è no i bitcoin è la valuta del futuro è vero è vero diglia quelli che fanno miner passa pieno in tuo culo eh ma tu non so se sei sentito in india quello che è successo in india non si trova una scheda video per colpa di sti stronzi qua eh in india vogliono vogliono ritirare tutti i bitcoin cioè chi possiede i bitcoin devono 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 venderli per forza perché sennò rischiano la galera ma la mia pure da tutte le parti dovrebbero essere così quindi devono devono liberarsene quindi un po' secondo me scenderà a picco bitcoin costa 200 euro i media sono tanti là eh vabbè sono tanti sì però se Elon Musk dice ancora che ne compra altri no ma dove ha detto che ne comprano altri eh sì l'ha detto ha detto che li vuole usare da marte a comprare le cose sulla terra ma quella è marte no 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 non succederà mai drink roba di scum eh vuoi c'era pesante un bitcoin costa 200 mila uno porca oh oh cazzo che è cool che è cool orazio dove stai ora che è successo ma non lo so è rimasto là a peso orazio ma che è successo non c'avevi la cintura non c'avevi dov'è Checco l'abbiamo perso è quinto che è cosmetto è dietro è dietro è dietro è dietro è dietro che è cool non c'avevi la cintura orazio sta qui no non si mette la cintura si abbarca che cazzo la metti la cintura e i pantaloni ma che scam che scam frinker vuole un chiappo tu signore quasi che è questo è caldo tu sai chi è Jimmy chi è orazio sai chi è Jimmy ci hai parlato si si ho lavorato pure qui l'assunto ha rifiutato in maniera molto scortese il mio posto di lavoro non direi scortese perché scortese mamma urlate urlate ti piace il cavallo non fu scortese come stanno andando agli affari comunque signore a me molto molto bene molto molto bene urla un attimo che sto per cascare sto per cascare sotto mi giro la destra devo tornare devo tornare non mi sembra di aver riputato in modo scortese semplicemente non potevo promettere presente a sigla orca miseria no a cascato a cascato ah no 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 porca miseria sto per cascare io però porca miseria sto per cascare io figlio ciao Winto sto per cascare io ciao Winto attento Winto bisogna fare come Frank bisogna sedersi lì occhio ma come fai non lo so comunque a Jimmy è un poliamore esatto gli piace il poliamore cioè più il polivo esatto c'è tipo sette ragazzi nove ragazze più siamo meglio è roba dei secchini bravissimo e poi c'è dei gusti molto strani molto ambigui ma gusti frutti esatto anche quello non è niente male che bei capelli che hai ragazzo che hai detto arco non è zeman ah Winto ah Winto ah ma stai a affogà oh gazz ma stai a affogà ah ah ma stai a affogà stai a affogà ah siamo arrivati no non siamo arrivati buonasera signori ma tutto bene mo si si perché avete un uomo là dietro attento è un uomo armato no no hanno sparato ma no secondo me non pensante no no sono gente normale che andrò ma non è perfetto ma vogliamo andare al tequila no no io ce l'ho da fare devo andare sui gambi adesso però si dimmi devo dirti una cosa vieni un attimo si posso fare una domanda dimmi tutto quinto una cosa segreta scusate dimmi dimmi allora scusa una cosa segreta quinto si che dice io ancora ma barca vorazio la barca come no 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 ma che mi dà un sacco ma mi dà un sacco di lavoro no mi dà una roba gratis ma che io lo vendiamo ma poi la vendiamo no 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 non voglio fare queste cose 60 milioni ma meglio di no meglio di no meglio non fare queste cose se lo disi tu a chi le vendi poi a chi le vendi c'è il contatto per venderla si si io conosco un po' tutti e chi è se vuoi te lo dico però eh dimmi chi è che gli vendi la barca un certo Mike Mike bella vita no non so che sia non so che sia ma non voglio rubare l'auto no no vabbè no lo so io voglio stare nel mondo legale ma come spacci coca no ma che spaccio coca no io semplicemente giro gli affari cioè io gestisco un giro ma non è che guarda io purtroppo sono anche avvocato quindi questa è tutta roba illegale ma che cazzo me ne frega ma io non faccio niente cioè fanno tutti gli altri tu mi hai visto mai sporcarmi le mani io nemmeno ho una pistola va bene Quinto io ti capisco però vabbè ti ho buttato l'idea che ci frega possiamo sempre fare un po' di casino no no casino no se vuoi venire a lavorare sui gambi con me beh volendo se ti servono un paio di braccia in più è magari anche un cazzo enorme e mo andiamo insieme allora se vuoi i gambi vediamo come procede ci può stare vado un attimo ad Orazio che devo parlare con lui e arrivo subito vai vai tranquillo vai grazie Luca Sera 83 007 grazie Orazio macchina Orazio c'è una macchina si si ce l'ho che c'è il camasio no Lamborghini andiamo azz ti posso chiedere un attimo una cosa? chi? a te dimmi buonasera io ho sentito che devi andare a campi ma te che c'hai qualche contatto c'hai qualche contatto? campi? di che? di grano di? di grano campi di grano ma che? ma che me sei scambiato? per uno che spaccia? vabbè c'hai qualche contatto i contatti? i contatti c'erò quelli elettrici se vuoi uscito e c'è dai fuoco allora non lo so io non so niente andiamo e me è stati che c'è i contatti dell'erba ma io gli ho detto che non c'è niente io non so niente ma vieni aprimi la macchina e ti metto la roba da mangiare dentro che a me non sei che il cazzo a me non mi interessa io non lo so vieni vieni carne salve parco dio ma che sto esplode qua buonasera no ma quindi sono questi bomboli che scoppiano emiliana ciao emiliana sono anderson ah ciao emiliana emiliana no non c'è la scena ciao lei è emiliana non l'ho mai chiamata non lo so chi sei tu vieni un po' con me vieni un po' con me vieni vieni eh un attimo devo dire una cosa a me ma non ce la avevi già il numero vieni un attimo qua devo un attimo parlare vieni vieni vabbè devo dare il telefono al mio amico che è suo a dopo ragazzi entrate tutti dentro che dè qua andiamo tutti dentro scusa ma i capelli che cazzo di chi è sta macchina bella sta macchina è tua si è mia ti piace spostatele 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 dentro casa immediatamente emily entra in macchina vieni perché te devo crema vieni devo mettere la crema devo mettere la crema vieni e vieni devo mettere la crema vieni e dai stai poco bronzata vieni ma che bella lambo che c'hai non prega nessuno di chi deve entrare in macchina no ma che bannate che raga in game in game ovviamente non è oddio jimmy lo sono lasciato da su il braccio oh ma jimmy è vero lo sono lasciato da su lo vedi sti cazzi lo rincontrerò jimmy caro amore mio ci rincontreremo prima o poi ciao bello eh jimmy andiamo vado sui gambi vado ragazzi Perchè? Perchè? Oh! Perchè? Perchè? Fai la trapanerella, te la chiedono tutti. Trapanerella? Perchè? Toh, almeno uno. No, no. Può c'è senza senso? Perchè devo fare la trapanerella senza senso? Può c'è... A parte che non posso perché è copyright la trapanerella. Non posso perché è copyright. Grazie mille, comunque, Bettino Crax. 200 bit, grazie. 300 bit, Bettino Crax. Un bacio enorme, grazie. Grazie mille, grazie mille anche a Toritto. Cinque mesi, grazie. Grazie mille a Luca Sera. 83007, due mesi, grazie. E IAS327, grazie mille per il mio Dersab. Grazie. Un bacio enorme, grazie. Grazie mille a Wonderfish. Grazie mille. Grazie mille a Wonderfish. Della sub Xslitz. Cinque mesi delle sub, grazie mille. In chat. Grazie mille a tutti. Grazie mille a tutti. Grazie mille a tutti. ritorno di cosa parli. Io sono una persona per bene. Dove sei? 10 In questo momento sto lavorando E dove? Al 30 Al 30 oppure da un'altra parte No da un'altra parte Mandami un attimo una posizione Sull'sms Allora dimmi dove sei Sul numero Numeretto Le mando il GPS Sì grazie 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 Ecco Allora No 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 Che è emily ragazzi No emily ragazzi La chiamo per dire che non Vabbè io lo dico a frp Ma non so dove sia No ma il camacho Ce l'hanno loro Credo Ah il camacho Eh non so Vabbè ma tanto devo andare solo là per Copro la mappa di te Copro la mappa Ho coperto Ho coperto 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 Sostiamo un attimo Ci mettiamo Dai F5 Porco diavolo Non funziona Non Arizona Suppressat Lo l'hanno Si Io B Mi Genolo Quamo Lo Il padrone Dove sei che io sto lì però non ci stai Sì ma qui ne abbiamo posato la roba Ok dove sei che Eh dove sei che ti ho parlato Sì sì arrivo arrivo Sì sì ti aspetto qua Parla Io sono qui a 307 Eh eh ok Padrone Padrone Sì mi dica Ha visto il punto? No però non è non mi interessava il punto io volevo sapere più o meno dove sta 10 Ah eccolo 10 monta Sì 10 noi continuiamo a lavorare Sì sì adesso è venuto voglia Ok Venga padrone Dov'è 10? 10 Non c'è 10 Ah ok Ah eccolo eccolo Allora 10 c'è un problema Sì Allora Eh Il cibo Costa troppo mi sono reso conto che costa veramente tanto Eh lo so Allora tu gli devi dire tutti quanti i dipendenti se no levo le chiavi a tutti Di ogni volta che tipo comprano il cibo Li mettono cioè di mettere 500 dollari dentro l'inventario se vogliono altrimenti se ne vanno a comprare da qualche altra parte Il cibo perché ho visto che costa mille un panino Ok quindi di volta che No costa mille un panino costa un po' meno Tipo? Eh dipende dove va Se va tipo 10 pezzi al yellow jack sono tra mille 3500 3500 Sì sì Dipende dove va Se va al yellow jack Al fast food anche al vanilla eh Al fast food quando costa Sì un secondo che devo chiamare la vedetti Carcadio ma voleva un culo a porca madonna Quindi verrebbe tipo 350 al petto al vanilla Ok Ok E invece Ok E invece al fast food quello che costa meno possibile Mille Mille fast food 350 dal yellow jack Yellow jack vanilla Paramas 350 giusto? Sì sì Ok Come potrà prima appena stiamo processando C'è un ragazzo detto che è serio che vuole lavora per noi Tu che dici? Eh l'ho incontrato Eh l'ho incontrato L'ho incontrato Gli facciamo un provino? Sì 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 Che pensi tu? Sì sì L'ho fatto Lo faccio io Ti do il numero? 555 Sì Ci rumore Ci rumore Ma che cazzo è? Ma che è te? Andiamo via Andiamo via Ma che cazzo è? 555 7 2 8 9 4 Puzza un po' Però Parlaci lo stesso Mi stick tv Grazie mille 9 mesi delle sappe Ciao bella Come stai? Grazie Ma dieci? Ma dieci? Sì che bravo Poi dopo dieci Muoverà a casa mia Inizierà A fare GTRP Tutti i pomeriggi A raccogliere Maria Tutti i pomeriggi Ragazzi Mi piace Come idea? Dieci E le aree Sei una persona fantastica Da invidiare Distinto E ti leggo Da quando hai messo Per la prima volta La tua faccia sulla rete Sei davvero Una persona fantastica E non ascoltare Ciò che crede Salve Salve Te ringrazio Salve Ma Qua si venne cibo e acqua Al BAMAS Eh potrebbe trovare qualcosa Ma ci stanno i proprietari Eppure è chiuso Buonasera Buonasera Cosa cerca? Ma lei va Veda il ballerio Eh volevo Eh? Ma che macchina è questa? Ti piace? Ma che diceva La sequestriamo? La sequestriamo Davide No No La possiamo sequestrare? No No Che vuol dire sequestra? Perché? È così È bella Ah capito Ma voi siete quei pezzi di merda Del sequestro veicoli Sequestriamo Io sono riconosciuto i capelli tuoi Qua a destra Sequestriamo Sequestriamo Eh Quell'altra che l'ha trovata Mi ha sequestrato la macchina Dieci No Sta macchina costa un botto di sordi Che fai? Costa un botto di sordi Fermati E via Ma che è tua? Ma qua c'è nessuno Al Bahamas? No È bello e più c'è gente bro È bello e più Sì ma Mi fai i prezzi troppo alti Volevo un attimo parlare Vabbè Non fa niente Dai Oh Aspetta un attimo Aspetta Sì Che devi fare? Devi cacà? Oh È come dei piccioni? Oh porco Diavolo morto Che schifo Porca troia Guarda qua Pulisci Pulisci Vi hai cagato sulla macchina Dieci dimmi Eh Padova una sorta di Di sogno Sì Di sogno Eh Come dieci? Stiamo finendo di con la roba da processare Va bene Sì sì Quanto è rimasta? Eh no Quanti non l'abbiamo portato tutto ovviamente da casa L'abbiamo portato solamente 900 Te ne porto un po' io? Sì Se vuole Non la vuole portare da casa Poi la vuole fare a lei No 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 La porto da casa Ah Facciamo avanti indietro Ne porta 900 Sì sì Perfetto Perfetto Arrivo Vai Corazio me la venne troppo la roba Veramente troppo Com'è ci parlo Corazio 200 Parco dio Camacho Volete che vado col camacho ragazzi mi piace di più il camacho? Vabbè la lambo mi piace di più la lambo Ah no a parte non si può fare con la lambo Quindi per forza lo camacho Per forza O lo posso pure modificare E' vero 7 e 15 vai andiamo Porca madonna Posso dirlo? Porco tío Allora Che cazzo è qui sa? Urca miseria Brutta Ciao Pinto Mi cercavi? Ehm Stai da sola? Forse Vieni vieni Entra Ma ho fatto biancorbo raga Allora vieni 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 Ma che cos'è questa musica? Non lo so Allora Senti Siamo soli? Sì sì Guarda io non mi evito di stare Cioè non voglio stare qua Se vuoi venire con me parliamo Senti io Non sono nato ieri Non sono nato ieri E non ho intenzione di discutere con lei Perché io sono nato ieri Scusami eh C'è una cosa che ti devo dire Ehm A me non mi sta bene Che te Scusa Guardami da fastidio questa musica da funerale Possiamo uscire fuori Grazie Allora aspetti Mi aspetti Dieci Senti Ti scrivo un messaggio Su ok 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 Allora Io vorrei capire una cosa Perché Sei andata da un certo Leonardo A dirgli del padrone Padrone E tutte queste cose qui Chi è Leonardo Ecco vedi A quanti altri hai detto il padrone Quinto Dove abito Ma prima cosa Io non ho detto niente a nessuno Seconda cosa Queste informazioni sono false Non so chi te le ha date Sentiamo Cosa hai detto Allora Ma io non ho detto niente a nessuno Ah no? Sei sicura? No Sicura Sei sicura che non hai detto niente a questo Leonardo Del mio nome? Sono sicurissima Non gli ho detto proprio niente E poi perché avrei dovuto Ci provavi con me E poi Mi hai Mi hai Bidonata Mi hai portato anche in posti molto Strani Dove stava quel Tipo Quell'ombare E io non ho detto mai niente a nessuno Ti sei fidato tu di me E comunque tu non mi hai mai detto Non dire niente a nessuno Anche se fosse Io ti dico Quello che ho fatto Ma comunque tu non hai detto niente Cioè tu non mi hai detto Non dire niente Quindi Ok aspetta un attimo Pelle 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 Pronto? Arazio ti chiamo dopo Ok? Devo risolvere una cosa Va bene No ho visto la chiamata Capito? Sì sì tranquillo No mi serve un Gesù Ah Dove? Ehm Perché ti serve un Gesù? A mo te lo dico io Vabbè io intanto vorrei uscire Ah vai usciamo Usciamo andiamo Eh vai usciamo' a fè Grazie. Che sta succedendo qua fuori? No niente siamo tornati a casa C'è il bottino Occhio perché ci stanno persone qua fuori Non so che cazzo vogliono Come persone qua fuori? Ci sono persone ma non so chi siano Aspetta aspetta Ah ma è orfa Sai chi è venuto qua fuori? Chi padrone? Eh Non posso dirlo perché sennò me Dieci Sai chi è venuta qua a romper i coglioni? No Una certa signora Con i capelli gialli Te la ricordi? Tutta padrona Ehm Emili? Sì Che ha detto? Non mi fa aprire niente Non mi fa aprire Non mi fa aprire un cazzo Senti io devo risolvere sta cosa un attimo Eh va bene Quinto Oddio guarda da uscire Ma che cazzo è? Che cazzo è questo? L'hanno evocato Ma che cazzo è questo? Quinto sono qui per te Eh chi è? Sono io Gesù? No sono ghost rider Mi hanno detto che mi cercavi Hai detto Che ti serviva un sicario? No Ma che cazzo è questo? Dieci Sono ghost rider Che? Ma che cazzo è? Sono qui per te Quinto Comportati bene O dovrò tornare A portarti Nel giro Ah ho capito Ho capito Va bene Va bene Bravo Arrivederci allora Arrivederci Ah dannati umani Ma chi è? Ho capito io chi è Capito io Ma chi è successo? Sto in caffetteria Voi continuate il lavoro Quello che stavate facendo Non fa aprire niente Non fa aprire Dieci Ci sono problemi di città padrone E svegliati Ma che era quello? Eh tranquillo Chi d'è questa? Mi è spaventato Mi sono cagato un culo Mi sono cagato È uscito dal nulla Ma Si può prendere la roba Da dentro la macchina? Sì sì Allora lascia Come l'hai posizione Qua davanti a tutti Hai parlato di Sì Marca draia Questo c'è da fa Ho bisogno di aiuto In caffetteria Ma non c'è nessuno Grazie mille Matteo Grazie mille Matteo per 100 bit E arrivo subito Finisco un attimo la scena al volo E arrivo subito Al proprio subito Eh? Quella padrone Aspetta che muto tutto Sì sì Ok Devo mutare pure io? No Vabbè Sì se hai un'assistenza Sì per favore Ok ok Muto Muto un attimo ragazzi Se non la mia voce Se non la mia voce Tu puoi tenerla Ciao 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 Eccolo Allora no È successo che Praticamente io ho voluto fare RP con Con la mia ragazza Gaia Eh però Ho capito Fa troppo la sverda Adesso Ha visto cose Sa dove sto Sa quello che faccio Sa cose È andato È andato da Leonardo A dire il nome del padrone Leo non mi ha mai visto N'RP prima del wipe Cioè dopo il nuovo Dopo il nuovo wipe Non mi ha mai visto Non mi ha mai sentito Perché io a Leo Gli avevo detto In chiamata In chiamata In tre Io Gaia E Leo Io gli avevo detto A Leo Sì dai Mo viene in RP Facciamo una scena E ti assumo Poi Gaia In RP Gli ha detto Io sono la padrona Sono Conosco il padrone Conosco questo Conosco quello E poi È un grosso Cioè per me Sposta l'acqua Eh sta perdendo la pazienza C'è da fama Ma ho detto Praticamente viene Viene sotto casa Ha visto le scene Compare e tutto Il problema è che Cioè se lei va In giro Cioè la paura mia È che va in giro A dire il nome mio E le cose Le cose mie Dell'azienda mia Le cose mie Questo io non voglio Che accade Potete parlarci voi Per favore E fagli capire Che Fagli scordare Sta cosa Per favore Proprio Se è possibile Eh ho capito Ma questa va in giro Di padrone Padrone Questa Cioè Sono troppe cose Che non deve sapere Ecco Sì ma sa le cose Ma sa dove sto E c'ho paura Che potrebbe Potrebbe Andare a parlare In giro De me Capito Quello c'ho paura Io Ha rorato Solo un giorno Ha visto un bar Ha visto Varie cose La mafia Ma Grazie io come faccio a togliermela come faccio a togliermela dalle palle perché se questa va in giro e parla di me è davo un casino che non voglio che questa va in giro e ma me venne sotto casa con l'amici e che cazzo e non lo so non so almeno parlare se ci potete parlare voi perché per fargli capire non deve di cose su di me io già parlo oggi ho parlato con leo e leo mi dice no io non c'è oggi ho parlato con leonardo di becchino e di perché non me fa e no io non ho detto niente a nessuno non ho fatto meta perché gaia c'è sarebbe emily sarebbe emily ma me l'ha detto lei il nome del padrone ma del numero 2 e tutto però è tutto nato dalla nazione fuori da una cosa off rp capito non è una cosa in rp quello che mi sono incazzato è la mia ragazza gaia killa se dovrebbe chiamare sul disco ma non voglio per marla è solamente fai capì che magari c'è cercate cioè non ha conosciuto off in rp in rp dopo allora io ci avevo fatto rp con gaia lei ha visto ha fatto tutto poi la sera quando ho staccato la live stavamo in chiamata io lei e de becchino e io ho detto stavo parlando con becchino per metterci d'accordo per farlo entrare dentro la gang e tutto quanto così off rp ma io ho detto invece che fatti entrare direttamente facciamo una bella scena in rp la ragazza mia invece che fa una cosa off rp in rp è andata lì e c'è invece che fa una cosa in rp quindi con leo che mi incontra casualmente tutte queste cose qua è andata la ragazza mia di e il padrone cerca aiuto il padrone che è chiamato ecco il numero del padrone ed è quinto capito ha fatto sta cosa qua che c'è fondamentalmente non succede nulla però non vorrei che questa c'è che che la ragazza mia vada in giro a parlare sì 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 ho capito capito sì sì ho capito capito ok va bene va bene va bene va bene mo ci penso io dai mo me lo gioco in rp ok 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 perfetto perfetto va bene va bene va bene grazie mille grazie grazie ciao 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 chiedere allora dieci dieci c'è una pistola Sì, sì, sì Eh, puntagli un po' la pistola addosso a questa Padrone Sì? Eh, non sembra il posto giusto proprio poterlo fare Se ci vede qualcuno Venga, venga, venga Alza le mani Alza le mani Entra in casa, entra in casa, forza Forza, entra in casa, stai puntata, forza Entra in casa, forza, forza, cammina Dimmi che vuoi da me Cammina Cammina Che cazzo volete da me Alza le mani Eh, schiocca le dita Ma che volete da me? Vai giù, forza, cammina No No Che significa giù, parla italiano Giù Le scale Giù Sotto Giù Sinistra Qua Vieni Bella mia Noi Che vuoi Ci siamo visti solamente un paio di volte In città Però Te l'ho detto, non mi è piaciuta la cosa che hai detto Ma io non ho detto niente Non ho detto proprio niente Gli hai fatto il nome Tu non hai le prove Ah sì, dieci Io non ho detto niente E lui che ha fatto Lui è andato in giro A chiedere il numero di dieci E' andato a chiedere il tuo numero Dicendo il tuo nome E perché? Io conosco il padrone Io conosco questo Voglio il numero di dieci E perché? Io ero là Inerme Non ho detto mai niente Non ho fatto mai niente Voi non avete le prove Non mi risulta Per non essere ammazzato Per non essere ammazzato Volevo entrare a far parte della vostra Candy E per non essere ammazzato Mi ha dato la colpa a me Ma in realtà ha fatto tutto lui Io non c'entro niente Io te lo dico Te lo dico in semplici parole Senza dire A Senza dire B Senza dire C Io e te Non ci siamo mai visti Mai incontrati Hai visto già troppe cose In che senso? Quando stavi con me Hai visto troppe cose E se poco poco Ti azzardi a dire Qualcosa Allora Io ho visto Ah no aspetta Io ti devo interrompere Perché Se io ho visto troppe cose Perché sei stato tu Che ti sei voluto fidare E io ti sto dicendo E io ti sto dicendo Tu ci tieni Tu ci tieni la tua vita Io non hai incontrati da nessuno Ci tieni la tua vita? Eh? Ci tieni la tua vita? Io ci tengo la mia vita Ma tu E allora E allora E tu stai svalvolando Stai svalvolando E allora Dato che ci tieni la mia vita Occhio a con chi parli Occhio a quello che dici Occhio a quello che fai Tu qui Non ci vuoi Non voglio Io non voglio Io ti ripeto Ti ripeto che non ho detto Niente a nessuno Tu mi stai accusando Di una cosa Che non ho fatto Io qui Non voglio Mi stai accusando Di una cosa Che non ho fatto Mi voglio anche uccidere Non mi interessa Mi stai accusando Di una cosa Che non ho mai fatto E non hai le prove Ah no? Non hai le prove Mostrami le prove Io non ho mai detto Niente a nessuno E poi tu Non mi hai mai detto Di non dire niente a nessuno La colpa è di Leo Non è colpa mia Quindi Mi sono una rossa Quello Mi è venuto a dire Che io sono la sua ragazza Mi è venuto a dire altre cose Io non la conosco Non gridi Non gridi per favore Mi sto ingazzando Perché voi mi state accusando Voi mi volete Dottere la vita Questo Questo Dicami a rispetto Perché io ho sempre avuto Rispetto di voi Ma dove sta il rispetto Dei miei confronti Questa me la voglio risolvere Non mi passi la pistola Per favore Credete a un moccoso Che è venuto da voi A dirmi le cose Quando Sono tutte fatte Sono tutte fagionate Sul mio conto Mettete in ginocchio E il suo numerino 598 Allora Senti Senti Il punto è questo Tu Mi stai accusando Di una cosa Che non ho fatto Non ho mai fatto Non mi sarei mai permessa Di farlo Perché io Fin dal primo giorno Ho capito Che persona sei Io ti rispetto Ho molta stima Nei tuoi confronti Mettete in ginocchio Io ti devo dire la verità Avevo anche preso una cotta Per te Io volevo andare a letto Con te Veramente Tu mi piace veramente tanto Non mi ammazzare Non me lo merito Non mi ammazzare Non lo farei mai Non lo farei mai Una cosa del genere Ti hanno detto Fugie Ti hanno detto Fugie Non devi Stai zitta Zitta Ti spara in testa Stai zitta No 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 Allora Ora parlo io Io oggi Non ti faccio niente Però tu Non mi hai mai visto Non mi hai mai conosciuto Scordati Non ti uccido Però ti devi scordare tutto Io poco poco Se io scopro Se io scopro No tu devi sentire a me Tu devi sentire a me Perché io le cose le dico In maniera calma Tranquilla La prima volta Seconda volta Mi arrabbio E la terza Fugie Sta zitta Tu hai visto cose Hai conosciuto persone Hai visto me Io non so chi sei Non ti conosco Non so Ah no Come mi chiamo Come mi chiamo Non lo so Come mi chiamo Non lo so Non mi accidere Ti prego Non ti conosco Non ti conosco Non c'è ancora nessuno Chi tiene Perché Questa è monnezza Ti prego Passami stare Ti prego Ti prego Sto piangendo Non mi chiamo Non mi chiamo Non mi chiamo Fatti rispettare Sei un capo Non farti fregare Dalla tua paura Senti Senti Allora Le cose stanno Così Tu Non ti devi ricordare In nessun modo Giù Inginocchiati Mettegli un bavaglieno Per favore A questa Mettegli Sì Sì Devo prendere Qualcuno C'ha un cortello Per favore Per tagliare Le corde vocali Cazzo Te le prendo E te le strappo Con le mie mani Se non ti stai zitta Ok Allora Tu Non hai mai più Tu non conosci Quinto Non conosci il padrone Non sai dove abito E non sai niente Se poco poco Ti rivedo qui Girare per queste zone Se poco poco Ti rivedo Con qualcuno Che mi viene a cercare Sai che fine fai Bavaglio Non serve un cazzo Non serve Non serve a niente Ma te lo dico io Che ci metto Nella nostra bocca Dai che vi dico Ragazzi Ragazzi Io vi dissocio Ragazzi Pensate c'è voi Io vado sopra Quando avete finito Quando avete finito Se non sta ristando Si va Quando avete finito Venite sopra Venite sopra Va bene Tio Tio Ok, senti che botte Dove vai? Non puoi uscire, fermati Merda Cappicchiati, cappicchiati Ho chiappato lo ratto, ho chiappato lo ratto Dov'è? Eccolo No, lo ratto è morto Senti, buttala Vieni, vieni Buttala in piscina, corri Eh, non posso correre pesante Corri, corri Mi hai rotto il cazzo questa, porca puttana Vuoi una mano, 10? Vuoi una mano? Vai, vai, vai Qua ingazzata nera come minimo A posto Ok, andiamo Ah, il telefono prendetele, se c'è il telefono non lo so Vero, vero Ah, sì, perquisicila, perquisicila Allora, che schifo tutto zozzo qua Che cazzo pulisce qua? Ciao bello Ciao Senti stavo cercando una macchina Eh ti sembra un meccanico? Allora che cazzo c'entra Che c'entra? Mi so perso Ah si? Eh lei si perde giusto in questa zona Eh si si mi so perso qua Ah proprio qua Ehm Arrivo arrivo Guarda Lo mettiamo a fianco a Quella che sta in piscina padrone Che sta in piscina? No 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 Sta a fare un bagnetto Amico mio Se vai dritto poi a sinistra Poi vai dritto sempre trovi la via Ah ok grazie Ciao Eh ciao 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 Che vuole questo? No lo so C'è entrato dentro? Coraccia Sto rancazzata come una bestia Mungaia Sicuro Dov'è? Lo dovevi uccidere Chiama la polizia Dov'è sto dito? Come si fa a ribergare l'arma? No 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 Chi? 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 Allora Sta ancora qua fuori? Non ho la c***a Dove sei? Eccola Mamma mia Come si prende in braccio Come si prende Come si prende in braccio Sta porca troia qua Come si prende in braccio Rimani qua Ma ti penso io a te Ancora tu Chiudi il telefono Chiudi il telefono Alza le mani Alza le mani Ancora tu Che c***o vuoi? Alza le mani Alza le mani Che c***o è successo? Piano zio Alza Alza le mani Ok ma che è successo zio? Dimmi Niente stai fermo qua Io sto fermo Che è successo zio? Ehm No non vai a prendere niente Vuoi desalvo uno gopro Qualcosa Te l'avevo detto Ma? Eh ho capito Ragazzi venite qua Venite qua Ma questa chi è? Ma la ragazza terra chi è? A dove la ragazza chi è? No Aspetta Un secondo Sì sì Voi dovete dirmi Che c***o è successo? Perché sono venuti questi Davanti casa Senza motivo Senza motivo Così Dal nulla Cioè Ragazzi Pronto? Ma scusa Sanderson Tu dove hai risolto la pistola? Dalla tipo qua a terra Eh no Non puoi però Ok Non se la rimetto Ok Ok Dovevi farlo fuori Quando potevi Porco il sign Ma non avevo un motivo Per farlo fuori Perché dovevo farlo fuori Porco il Dio È in mezzo alla via Lì Ah sì È in mezzo alla via E' in mezzo alla via E' in mezzo alla via Ma come no L'ho scritto io Che scrivi no L'ho scritto io Che scrivi no Un'uscita secondaria Raga Quindi è inutile Che stiamo qua Non possono uscire da dietro Eh no Perché se vai vicino alla porta Non c'è l'entrata Ma spostati l'opera Spostati Spostati È lì Ma Eh va giù Wow Oi Matteo Oi Allora Io vorrei capire Che cosa cazzo È appena successo In questo posto Io avevo rapito la mia ragazza L'avevo portata dentro L'avevo portata dentro casa Una volta che stava dentro Gli ho detto Guarda tu Ho fatto quello che mi avete consigliato voi Quello che mi ha consigliato pure Dandy Ovvero Gli ho detto semplicemente Non Parlare mai più di me Noi Fai finta come se non ci siamo mai conosciuti Altrimenti ti uccido Ti ammazzo Io ho detto questa cosa qui Io ho detto Lei non so per quale motivo Non so per quale motivo C'erano delle persone fuori Ad aspettarmi Oppure non lo so Cucina random Poi sono uscito fuori Arriva questo Mi fa Scusa sai dove sta la via del meccanico Io lì faccio Guarda il meccanico Guarda che vai dritto A sinistra Giù in fondo Vai in fondo la strada E Insomma Trovi il meccanico Io che cazzo vuoi da me Cioè perché stai qua Qua davanti Davanti casa mia poi Davanti casa mia Una persona non avevo mai visto In vita mia Ok Poi Cucina nulla Dopo vado Vado fuori Vado a vedere la mia ragazza Perché dopo la so buttata In mezzo alla piscina Gli ho detto Aspetta che non mi funziona Non riesco a prenderti in braccio Non so come si fa Poi dopo praticamente Torno lì davanti casa Torno lì davanti casa E ci stavano a questo Culo cortello Che m'ha Che m'ha puntato Lo cortello addosso Mi ha detto Alza le mani Alza le mani Io ho detto Ma perché Che è successo Alza le mani Ma al piano Che c'hai Ah si M'ha tirato una cortellata Senza senso Cucina Random Davanti casa Per favore Annullate sta merdata Che hanno fatto a Matteo Cucina Davanti casa Poi sono arrivati Sono arrivati altri 5-6 Sono arrivati altri 5-6 Davanti casa Senza motivo Cucina nulla Ma una cortellata Mi ha tirato Ma tranquilla Ti ha killato Con quella cortellata Ti ha killato Sì Mi ha appena killato Mi servirebbe Il tuo nome Steam Per poter risalire A chi è stato Online Matteo Online Matteo Io non capisco Ragazzi Ma non capisco Perché questo Ma così da nulla Oppure Gaia Oppure Gaia La mia ragazza Ha fatto metagame Erano amici De Gaia Hanno fatto meta Sono venuti là Perché già sapeva Che insomma Andava a finire male Ma Addio Ci pensiamo noi Matteo Non ti preoccupare Ah ma hanno sparato Da dietro È vero Non mi hanno Non mi ha Cortellato Ma ha sparato da dietro Qui c'è senza motivo C'è una pistola Non so nemmeno Se ce l'ho la pistola Ma Io So senza parole Giuro Così Ma Senza parole Davanti casa poi Senza un motivo Senza nemmeno Fa una scena Te lo chiami L'assistenza All'assistenza Almeno fai una cazzo Di scena Dimmi perché Dimmi perché Dimmi che cavolo Ho fatto Dammi la possibilità Di difendermi No così Ah sì Ma se è effettivamente Così è RDM Quindi tranquillo Ci pensiamo noi Eh Cazzo Mi ha chiesto Malax Se può essere spostato Conte una assistenza Sì 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 Certo certo Sposta Sposta Dai non hai un'assistenza Quindi Niente Eccolo qua Malax Ci sono Ci sono Ecco ecco Se volete la clip Comunque Ma non è un fatto Dei clip Non clip Io non so che cazzo Sia successo Cioè Gaia Va da Leo Gaio va da Leonardo Da De Becchino Gli dice queste cose Gli dice quelle cose Poi a me lo ritrovo Davanti casa Degli sconosciuti Che non ho mai visto Non sanno nemmeno Come sono fatto Nemmeno so chi so E qui c'è da nulla Pa Mi bondano un cortello addosso Poi dopo Mi spara da dietro Un altro Mi spara Ma che cazzo Sta succede Porca puttana Dicono che l'abbia chiamati Gaia Però Gaia Era senza telefono Era senza telefono Era pure morta Come ha fatto Vabbè anche Ma potrei chiamarli Prima ma era senza telefono La clip di questo Ma poi anche fosse Cioè non può Fa me da Gaia Che cazzo Ma che fai Vai da informazioni Della mia gang In giro Vabbè ma questo Vabbè ci può stare Alla fine Nel senso Er e P Però Quello che hanno fatto Loro Il va mancare Assurdo comunque Io comunque Ma Alex Te l'ho detto Io lo voglio per ma Gaia Perché veramente Sta a fare troppi errori Io voglio dal perma Perché non Non esiste Va da Leo Va da Leonardo Qui c'è Gli dici Quinto Il padrone Io sono la padrona Sono andato da un bar E qua Ho conosciuto quello Ho conosciuto quella Ma che cazzo E poi amore Come scusa Come scusa Mi ha detto Tu non mi hai detto Io non ho detto Niente a nessuno E prima Leo Ho fatto l'azione con Leo Leo e Leo Ma ha detto Chiaramente Ma ha detto Guarda C'è una cosa assurda Malax Come Leo Ma ha detto Leo ma ha detto Guarda Leo che ha detto Leo Malax Cosa ha detto Si Non ti ricordi E' stata Gaia No è stata Emili Mi ha detto Tutto Poi Vado da Emili Mi dice No non sono state Io Purtroppo Non lo so Se è stata Leo o meno Perché non c'era Ecco Quando ho visto L'acido C'è Devo ammazzare Sia Leo Ammazzo Leo Ammazzo E' mazzo pure Gaia Tutti due Perché porco Dio Cioè Io non Comunque oggi Ne ho Non si è fatto Manco vedere Ad un altro Comunque poco Doveva lavorare Poi non ha fatto Un cazzo Ma non ho tolto La pistola Vabbè Non lo so Se c'è la pistola Se me l'ha levata Non lo so Io gli voglio Un zacco di bene A Gaia Io voglio bene Io voglio Io voglio Tutto quello Che cazzo Te pare Però se me se deve Facco c'è No figlia mia Cioè No Via dai coglioni Via porco Dio Sì vabbè Sicuramente Non è un gioco A cambiare Nel senso Il personaggio Di GTA Non è la persona Reale No vabbè Sì ok Però se tu In RP Mi devi fare un nome mio In giro Devi dire Il padrone Spaccia l'erba Fa quello Fa quello Sta cercando I dipendenti La gang Senza che sappia nulla Tra l'altro Comunque Non è che Cioè Vabbè Venuta con noi Ad ambare Ah vero Vabbè Venuta Vero Allora sì Però che cazzo Sì ma questi qua Che cazzo Sono Per capirci Ma che cazzo Ne so Chi sono Boh Da dove cazzo Sono usciti Da quale buccio Di culo Sono usciti Questi Porco dio Ma poi sto sfigato Non ha manco Avete le palle Di ucciderti Lui ti ha dovuto Far star fermo Per fargli fare Il colpo Alla testa All'amico Ridicoli Sono venuti Sono venuti là Perché già sapevano Che la volevo uccidere Mentre io non gli ho detto nulla In rp Che la volevo ammazzare In rp Io non gli ho mai detto Che la volevo uccidere Mai Io in rp Ho detto solamente Che gli dovevo parlare Io e te dobbiamo parlare Vieni un po' con me Che mi fai Che mi fai Mi devi ammazzare Solo se c'erano Amici miei E poi me la sono ritrovata Sotto casa Con gli amici suoi poi Vabbè Parliamo Tutto Io sento che non passe viva Ha fatto la cogliona Ha fatto la cogliona Perché è scappata via Da casa Doveva rimanere lì Ed era pure puntata Con la pistola mia Ha fatto una fia Esatto Ha fatto pure una fia Scappata fuori da casa E poi che vuoi Che poi non è un mazzo Doveva ucciderla Dentro casa Però non mandava Di uscire Dentro casa E poi quelli là Come cazzo sono venuti là Stavano là già da prima Ok Stavano là già da prima Ok E beh che fai Cucì senza senso Ma in mazzi E pum Beh questo è che erano Sigari che ha comprato lei Boh Se è questo Ok Però non aveva Manco un telefono E' un diritto Ma Questa è da ammazzare una volta per tutte Ti voglio bene Guy è tutto Però cazzo Non fa cucina In rp Porca puttana Capito che ti vuoi divertire tutto Però porca puttana Non me fa cucina In rp Perché comunque Rovina un po' L'esperienza Anche nostro Comunque muo leo Vediamo un attimo Come si comporta in rp Se entra il pomeriggio Se entra la sera Se non entra mai O entra solo quando gesto io Oppure se magari Che ne so Fa altro E non voglio Ma io la vedo La vedo Si si Ma io domani Non ci sono in game Stavano avaricci Per cose varie Sabato sono avuti Giamma fuori Tra volo Autobus E tutte le robe Quindi domani Dopodomani Non ci sono Ecco su Quando vieni da me Malax Fai live Il pomeriggio Gtrp Tutti i giorni Si Per me va bene Se alla città Va bene Magari in quelle 6 ore Fai 3 ore Una cosa 3 ore Fai Gtrp Si si Lo voglio Va bene Magari Cugini un po' Come te pare Cugini Una volta cugini Una volta fai altro Si vabbè Ma anche qualche altro gioco Così Se loro vogliono Gtrp Tutti i pomeriggi Nessun problema Ecco Voglio Faccio un pull Ragazzi Volete Gtrp Tutti i pomeriggi Malax Il pomeriggio Tutti i van di pomeriggi Gtrp Con Malax Fate un buon Bello pull Mannaggia Cioè stavo Checi tranquillo Stavo a fare Il mio rp Porca troia Ma la ritrovo Davanti casa Ma Davanti casa Con gli amici suoi Perché Perché già sapeva Che la dovevo Ammazzare Eccolo Guardalo Intelligente di turno Intelligente di turno Guarda Grande brutto Guarda Lì Dov'è Qua In benvenuto I nomi In benvenuti Aspetta Cioè Se si vuole divertire Ok Ma non Andare In giro Le cose Le cose Mie Cazzo Cioè Anche perché Ho rovinato La live Cioè Stavano Bene Non capisco Non mai Grazie Xando Comunque Della Sab Grazie Mille Grazie Mille Bettino Crax Grazie Mille Dei 200 Bit Ah cazzo Dovevo mutare Dovevo mutare L'assistenza Vero Vabbè Non mi hanno detto niente Dovevo mutare subito Mutavo subito Grazie mille Gianluici 21 7 mesi Vedete in bono? È Bono Gianluici Ciao Bello Grazie mille Anche a Bettino Crax Grazie mille 100 bit Ah Le ha chiamate Le ha chiamate Le ha chiamate In live Le ha chiamate In live Veramente Le ha chiamate In live Lo stavano là Da prima Non lo so Però Questo Dopo Lo devono Vedere Loro Perché Non lo so Ma Possiamo risponare Comunque Volendo Così dicono In chat Che li ha chiamati In live Dicono pure Che sta ancora Parlando Di te In live Mi interessa Cioè La ragazza mia Che mi metto Fa Fa cagnare Con la ragazza mia De ste cose A me non mi interessa Cioè Io voglio solamente Che non va In giro A dire Il mio nome Padrone Che cerco Dipendenti Che cerco Questo Cerco Quello Mi basta Solo quello Mi basta Non voglio Fa Non voglio Solo quello Voglio Voglio solo Quello Voglio Cazzo Ma alla fine Con questi qua Non ci abbiamo potuto Parlare Alla fine Eh Alla fine Con questi qua Non ci possiamo Parlare Non lo so Sta sotto Non so In teoria Monkey 93 Penso C'è Quello lì Camo Che fa parte Dello staff E sta parlando Con questi tre Non questi due Perché snake Vuole Fa parte Dello staff Con questo Monkey E quest'altro C'è un altro Problema Matteo Però Che ci penso Ne Problema È che Se io vengo Da te C'è La sera Con che computer Ti dovrei Aiutare Nel senso Quando tu Fai Gtrp di sera Eh C'è il pc Il pc Il mio Eh C'ho Un pc In più Per te Ah Un pc In più Ok Vabbè Perfetto Perfetto Leggi di più La chat Che loro Sanno La verità Ma ragazzi A me Non mi interessa La verità Non verità Io Ieri Cazzo Stavo A farmi Cazzi Miei Io Leo Non l'ho Mai Visto Mai Parlato Con Leo E' venuto A sapere Il mio Nome Dipendente 10 Che cercavo Che cercavo Che cercavo Dipendenti Tramite Gaia Ok Tramite Gaia Io a Gaia Gli ho detto Non fa Ste cose Non andare Da Leo A dire Ste cose Per favore Non fa Ste cose Perché noi Off stream Off live Off rp Avevamo Stavamo In videochiamata Con Leo Gli avevi detto Di entrare In videochiamata Gli avevi detto Di entrare Nella gang Ok E' vero Ma Pensavo Che si dovesse Svolgere Tutti In rp Non che così Dal nulla Vai da Leo Gli dici Il padrone Sta cercando Dipendenti Vai da lui Ti do il numero Dei 10 Tutte ste cose Qua Il pull È stato fatto Per vedere Che portare Ah il pull E te lo faccio io Non voglio Fermarla Voglio semplicemente Che non vada In giro Fa le cazzate Distronzate Cioè Ah comunque Il giorno È stato fermato Ah sì Perché Eh Onestamente Non so il motivo So che è stato fermato Oggi Ma io voglio bene Io a Gaia Cioè Però io chiedo Solo semplicemente Di non andare a dire Il mio nome In giro Di andare a dire Il mio nome in giro Quello che faccio Dove abito E porco Dio Mi porta le persone Sotto casa Io dopo come devo stare Ragazzi Dove sta bene Ditemi Deve sta bene Io avevo semplicemente Detto Di non Off rp Io l'ho detto Off rp Di non andare in giro A dire cose In giro Qua e di là Lei in rp Mi porta le persone Sotto casa Dopo uno dice Che non devo incazzarmi Va bene Mesa che è arrivato Il momento Dei due zampate In culo Matte spero che gli danno Una punizione a questi Perché se lo meritano Ti hanno ucciso Senza motivo Te se vuole bene Buonanotte Cuore rosso Ok Ci sta il pull Ragazzi Malak Se lo volete GTA full day Gtrp full day Altri giochi Più gta Oppure Altri giochi Tranne gta C'è tutto Tranne gta Scegliete voi Ragazzi È importante Questo pull Votate Ricordo che io Non sono abile Con i giochi fps Sappiate Lo dico prima Grazie mille Emanuele 31 Nt Grazie mille Cento vita Dove No Non so Mi hanno ucciso Senza motivo Valido Scusa se mi permetto Ma non è giusto Che ti rovini Sempre le live Twitch E il tuo lavoro E ci campi le persone Parla le seriamente No ma non mi ha rovinato niente ragazzi Lei si sta a divertire con me Mi sto a divertire pure io Però alcune cose Gli ho chiesto se semplicemente Poteva evitare di certe cose Tutto lì Non è che io so detto Tutto lì ragazzi Grazie mille Larve 4 100 bits Ma poi vorrei capire Perché che c'entrano questi con Gaia Cioè vorrei capire che c'entra questo con Gaia Non ho capito che cosa c'entrano Dicono GTA Full Day Malax Meglio così Molto meglio Beh poi magari comunque se vogliono Anche qualcos'altro Durante il giorno Un giochi esser Qualcosa del genere Non vuole passarsi il tempo Oh vediamo perché io non so nemmeno così Uno sti giochi Un giochi esser non sai cos'è Quello che devi indovinare Ma dove fate perché è un gioco Vedi una zona E devi indovinare Dove cazzo sta E' fatto mi sa Tipo vedi la torre Efele Deve mettere Parigi Tipo nella mappa No Tipo vedi la torre Efele Cioè io non ho parole Malax Ma alla fine non si può sapere Questi due stanno facendo qua sotto No non riesco Non riesco Non si riesce Vorrei parlarci pure io Per capire che cazzo fosse successo Con questi ragazzi Cioè per capire Cioè Ma quello che ho capito OffRP In pratica E' la gang di Di Gaia questa In teoria Gang di chi? Quello che leggo Quello che leggo Dalla chat La gang di chi? Di Gaia Da quello che leggo in chat Non so No ma che gang di Gaia Ma ti pare che c'è una gang E che cazzo ne so Questi qua qualcuno saranno Ecco Penso Erano pure organizzati Tra l'altro Ma io vorrei capire che cazzo Devo fare Devo respawnare Che devo fare Posso respawnare se vuoi Non so venuti più qua A dirmi che devo fare No no puoi respawnare Puoi respawnare Sei sicuro Ma perdo l'arma Eh vabbè Tanto l'arma Casomai se l'annullano Se l'annullano Te la ridammo Sicuro che posso respawnare? Matteo guarda la live di lei Ho fatto pure io Che dice? Anche perché l'azione è finita Aspetta un attimo Il procedimento era troppo lungo E quindi per paura Per paura Di quello che magari Mi poteva succedere Perché ero stata rapinata Ero stata portata in feriteria Avevo paura Allora Sono andata a chiedere per la città Ho conosciuto Anderson Ovviamente Non arrivavo dritto al punto Però Ho notato che Anderson Comunque era una persona Abbastanza affidabile E gli ho raccontato Dei miei problemi Gli ho detto che mi serviva Una persona Che mi Aspetta un attimo Mi mettiamo qui dietro Per favore Che siamo all'alto I punti Ci possono vedere Continua Stavo dicendo Mi sono fidata di Anderson Perché Non me ne frega niente Mi è sembrato Vorrei capire Più che altro Che devo fare qua? Che devo fare? Quello voglio capire Vabbè A parte per Marla Porco Dio La pistola Abbiamo perso La pistola L'abbiamo perso Cazzo Porco Dio Porco Poi Dio Un'altra Mi ha detto Che è qui Bocca dentro Ci sono Porca Madonna No 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 Solo a me Ah ok Ok Sono poco Ma sto male Ho fatto La gentile Poi Il logico L'ha sparata Esatto Ok Aspetti Firmo subito Sì Voglio che parli chiaro Nome e cognome Della persona Mi sa che si chiama Padrone Dicono Non lo so Padrone Così dicono Ma te si è presentato Il padrone Ah ecco Sì Ma stavo Dove stavamo prima Sì Da porca madonna Perché deve fare una cosa del genere Capelli biondi Era lui Lunghi fino alle Non si deve ricordare di niente Vabbè Comunque vi spiego meglio Praticamente questa persona mi ha detto Mi ha detto Ti voglio cremare Allora io sono andata da Carmine E le ho detto Guarda Carmine Glielo ho detto nei messaggi Quindi ciò Li posso anche leggere Aspetta una cosa Premi muscolo F2 Ma che stai zitta Mi sta a rovinare Le repite Ma che stai zitta 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 Ma esci per favore Ma perché gli devi E tu non mi hai rovinato l'RP a me Eh Esci per favore Ma te stai zitta Non ricordate niente Per favore Eh ma se loro mi hanno portato in ospedale E il medico mi ha curato Io dopo dieci minuti Mi posso ricordare Ma che stai zitta Ma che stai zitta E vatti a leggere il regolamento Ma vatti a leggere il regolamento Ma perché me devi rovinare l'RP E tu perché mi devi ammazzare a me Ma perché me devi rovinare l'RP Porco dio Fai l'RP che ti pare Porca madonna Ci sta Ma che stai zitta Senora 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 asigno grazie scusa c'è uno di acqua au mi senti? mi sento au fratelli scusa scusa c'è per caso uno una bottiglietta d'acqua 4,4 da uno sbatto per terra grazie mille non c'è affatto FLLP cambiamo serve malax ma comunque ci sono sti problemi non è che è solo qui no cambiamo serve che è meglio quanto era bello il FLLP però eh cazzo cazzo bene chiaro cambiamo serve viene sul mio discord se vuoi se ti interessa se no si si un attimo volevo finire sto discorso con l'admin se poteva venire perché ha fatto FLLRP alla fine ha chiamato i semplici senza telefono cambia il cambio server no non ti arrendere ci stavamo divertendo e dai raga porco dio me sta mettere in cattiva logico tutti porca madonna me sta di che che me vuole crema gemme sta di sta dando in giro che io la so rapida che il padrone la rapida capelli biondi lunghi standard in giro a stand ad in giro che la voglio rabbia la voglio mazza mentre io gli ho detto chiaramente non di niente della roba mia mi sta a rovinare l'rp con tutti e cazzo mi sta a mettere in cattiva logico tutti allora porco dio c'è proprio sì si dura le testa figlia mia allora file rp che te pare io cambio serve porca madonna cambio serve porco dio volevo stare in anonimato porca madonna e allora provo a vedere tanto 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 c'ha sempre ragione lei io non non c'ho diritto di parola c'è sempre ragione lei io non so che cazzo fa ho sbagliato io lo sapevo e che palle ma perché devi rovinare il tuo intrattenimento me lo so stranger com'è mi dispiace matteo mi dispiace matteo mi dispiace Vabbè. Ok. Stavamo andando alla grande. Impero, torno su Impero. Matte mi dispiace, lascia stare e goditi la strema e non darti le colpe. Che è una chat intera che ti adora. Vabbè, tanto c'ho ragione lei, non è che... Italy Full ti aspetta. No, no. Non esiste. Italian Paradise. Fai sondaggio per chiedere se vogliono cambiare server. La chat ti adora. Dai Matte per favore, lasciala stare, non cambiare ti prego e boh. Dai Matte fregatene e torna dentro. No. C'era anche Jimmy che faceva scannare. Possiamo essere figli scannare sera con il problema della batteria. Sono stato stupido io A voler fare RP con lei ragazzi Non dovevo Non dovevo Non dovevo facer RP Non dovevo Non dovevo Non dovevo Non dovevo Non dovevo Non dovevo Prova a Dert City. 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 un paio da nessuno grazie a tutti se devi cambiare server almeno finiamo in bellezza no? vendetta e poi esci per sempre grazie a tutti oltre che un divertimento questo per te è un lavoro ti sta rovinando è dentro qui quindi l'abbiamo spostata? dimmi era per abbassare la visuale su discord a scopo non si sa mai oltre a scopo oltre a scopo bravissimo Mattè tutti vogliamo che rimani qui vai che si riparte alla fine ma è fratto oltre a scopo ma è morroidi chi? tu perché? oltre a scopo ok oltre a scopo Sì, sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.